cos'è il momento opportuno poi è una cosa simile a quella dell'altra volta no basta ancora è una crociata contro la danimarca ciao a tutti ragazzi c'è chi mangia carcassi di animali senza senza panna tra le altre cose la notizia dell'ultimo secondo berta non sta mangiando la panna allora buonasera a tutti buonasera a tutti e il podio del tour è già praticamente fatto arrivederci ci vediamo sabato pomeriggio settimane allora buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera è una delle live più attese dell'anno sì una delle live più attese dell'anno ovvia ovviamente ovviamente e ora siamo in attesa di simone di velasco che è che sta facendo un'intervista su un giornale bolognese insomma non vediamo insomma e arriva arriva tra un po' insomma quando gli pare verrà gli ho detto e che volevo dire nulla ragazzi facciamo subito magari qualche domanda botte risposte se no poi ci dicono sempre che si parla sempre possiamo parlare anche del campionato prima del tour in ordine di importanza c'è l'uzbekist no 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 prima c'è il 9 su 10 di Miguel Angelo ah è vero è vero è vero ormai il resto premo è vero è vero è vero è vero è vero è veramente ridicolo possiamo dirlo è ridicolo? come è ridicolo? ma cosa dice? dai via dai ridicolo per cosa? ma perché cosa vuol dire vince 12 tappe in quel giro lì? ma quando hai già vinto? eh basta voglio dire dai ma scusa ma se vince agile ma guarda che andava piano alle ultime tappe solo che andava piano ma gli altri andavano più piano di lui è una vergogna vederlo lì sprecato in ordine di importanza Colombia, Uzbekistan poi c'è anche quello svedese che ho sentito delle notizie inquietanti però vabbè cosa hai sentito? eh vabbè è il momento opportuno allora ragazzi no vabbè siamo 400 persone dopo due minuti quindi voglio dire c'è un po' di hype credo per questa live allora per Colombia o l'Uzbekistan? ovviamente sì l'Uzbekistan allora cos'è successo in Uzbekistan? che praticamente hanno inventato risultati cioè lì non è che la gente si è nascolta in un bosco pare pare quindi Flore scrivi alla federazione uzbeca se vogliono venire in live questa sera io consiglierei di descolargli o a uno di qui o a quello che ha vinto anche volendo per sapere se ha corso o no eh giusto è vero sì praticamente pare che ci fosse uno che un corridore greco mi pare spagnolo spagnolo spagnolo? chi è? sì la fonte è quella lì eh ma gliel'ha detto quello greco mi sembra eh cioè che c'era questo greco mi sembra che c'era questo greco che siccome lui segue le classifiche mondiali quindi penso abbia tanto tempo libero e quindi era andato in uzbekist a vedere i campionati pensati che questo c'è un cazzo da fare la mattina e la sera possiamo venire tranquillamente e lui era lì te ci saresti mai andato a vedere il campionato uzbeco? boh un attimo si va a vedere quell'arbanese sì sì e poi si va in uzbekist tanto più o meno siamo lì no? sì e pare che lui fosse lì quel giorno in cui si dovevano disputare le gare e non ha visto niente non c'è stata nessuna gara almeno lui l'ha riportato sì poi lui si ha annullato i risultati che gli avevano inviato questo è perché praticamente questi fanno punteggio per andare alle olimpiadi capito queste cose quindi ah ok il motivo sarebbe bello capito? non è che allora sembra che era un greco però sì non lo so io ho letto solo la notizia che la notizia se no si iscrive a questo vi scusa no ragazzi ma dai lo so che l'Uzbekistan non è accanto all'Albania però ho detto già che siamo a via ci va anche in Uzbekistan dai attenzione punti diate io da qui che avevo capito buonasera bell'applauso al nuovo campione italiano grazie grazie a tutti che bello grande Simo hai fatto una volata tanta tanta roba complimenti eh dai finalmente meno male complimenti sei il nostro prodotto ti abbiamo spinto è un anno e mezzo che spingiamo che spingiamo Simone Velasco siamo più contenti noi di te guarda io ero a casa con un mio amico contento eh cosa? io sono bello contento eh no noi di più no era a casa con un mio amico che no un mio amico col programmatore dell'app si era lì a fare delle cose e poi ha detto ah fammi vedere l'ultimi chilometri del campione italiano poi ho fatto un urlo come se avesse vinto la Juventus la Champions League cosa che ormai non capita da parecchio tempo grande Simone grande Simone ma eh questo campione italiano era duro o no perché siete arrivati in pochi però comunque davanti c'erano anche gente veloce più che scalatori no? quindi come era duro o no questo campione italiano? ma comunque gente veloce che però nelle classiche va va sempre molto bene quindi sono passisti resistenti che che quindi tengono anche su sui percorsi duri il percorso italiano sicuramente non era dei più facili perché quattromila metri di dislivello non è non è da tutti i giorni e specialmente il caldo ha fatto ha fatto il suo e quindi alla fine la selezione è venuta un po' per il caldo e un po' perché il percorso ti logorava e ti e ti levava un po' di di energie ogni giro alla fine siamo ritrovati questi qua e è andata bene stavolta dai si ha fatto ha fatto veramente una 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 garona che poi siete rientrati dal dietro siete rientrati anche bene cioè si è arrivato fresco io sinceramente pensavo che che Trentin fosse l'uomo o anche Sbaragli fossero gli uomini gli uomini più più insidiosi però effettivamente ha fatto una volata eccezionale è stato furbissimo poi Trentin ha mandato a fanculo qualche uno no 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 guarda che Trentin quando ha fatto quel gesto era per dire che Simone era arrivato primo ha fatto così nel senso che a Simone è arrivato prima però no c'è da dire una cosa che è vero che magari c'è stato questo scarto di Sbaragli se non sbaglio che ha un po' chiuso Trentin ma non avrebbe mai mai recuperato Simone al massimo per un secondo posto credo che cioè curva perfetta uscita perfetta e volata perfetta e avevi più gambe cioè parliamoci chiaro era evidente no no ma io sapevo che se arrivavo con quelli là me la giocavo poi ovviamente non ero sicuro di vincere però sapevo che che me la sarei che me la sarei giocata avevo già fatto più arrivi magari non per la vittoria con loro e mi era già capitato di batterli in volata quindi ero consapevole delle mie delle mie possibilità e sapevo che le gambe le avevo quindi era solo un fatto di non farsi di non farsi chiudere come è successo poi a Matteo insomma un po' Lorenzo con con Cristi anche se sono un po' un po' toccati tra di loro quindi ho preso la volata come la volevo prendere e questa volta è andata bene poi anche a me tante volte mi è successo che avrei voluto mandare a fanculo un po' di gente però purtroppo non lo so però ascolta però è troppo facile vincere contro Trentin in ruota cioè sono due corridori che effettivamente la vittoria fanno fatica a cogliere quindi è troppo facile ora ora si vuole una vittoria la prossima missione è una vittoria di spicco contro gente che vince no sto scherzando ovviamente sto scherzando ci proviamo tranquillo con la maglia ci proviamo ora appena appena abbiamo il modo di riattaccare sul numero mi faccio trovare pronto e se non è la prima quando quando Simone ma stiamo un po' decidendo tra il Benna e la squadra anzitutto se fare il mondiale oppure no in base a quello che mi dirà il Benna io e la squadra vorremmo farlo il Benna farà le sue scelte anche in base alle scelte che farà il Benna poi decideremo dove ripartire con la seconda parte di stagione se la Spagna o il giro di Polonia quanto quanto pesa la maglia ma ora la maglia italiana ora niente un corrime dai però in futuro già ti pesa avere questa responsabilità per un anno no no anzi è una leggerezza ora sono 5 kg di meno con questa maglia addosso ho seguito una vita sicuramente ora che l'ho raggiunta per fortuna ho detto guarda ora sì che sono contento allora Simone noi abbiamo da farti una richiesta chiama Vinocuro Vocchi responsabile estetico delle maglie della Stana dili di non fa la cata che hanno fatto a Nibali che è la maglia dell'Ungheria mi hanno promesso di fare un bel lavoro allora noi ci abbiamo su Telegram hanno mandato 4 maglie 4 opzioni di maglie che ti consigliamo sì 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 che ti consigliamo di mandare a a chi di dovere in Casastana te le facciamo vedere aspetta la prima la vedi yes allora la prima è questa molto semplice chiaramente voi non siete brandizzati i castelli però va bene Astana maglia bianca maglia di colore questa sì questa è stile quella che aveva Zana più o meno poi ce n'è un'altra che è la così frontale e non rigirata però il meglio c'è da avvenire poi un'altra è con lo stemma dell'Italia addirittura a modo nazionale però ora viene quella più bella secondo me ci dobbiamo mettere anche le stellette di quanti mondiali abbiamo vinto volendo sì volendo sì volendo sì e poi ora arriva l'ultima questa è quella è quella che consigliamo quindi sinceramente è quella che non so io penso in chat preferiscono e penso che anche a te che ti piacerà è questa questa è fantastica ti tiene d'occhio eh con Salvini io opto per questa però ora gliela mando subito te la invio tramite tramite whatsapp insomma questa qui insomma faresti una una porca figura diciamo io penso che Pogaccia quando ti vedono passano questa maglia la voglia a proposito di mondiale ma questa squadra c'è già oppure cioè non è che più o meno c'è un'idea perché non si è capito bene che percorso che percorso è per chi è insomma non è molto chiara sta cosa ma io penso che il mondiale per quanto possa essere facile il percorso è sempre duro perché una corsa di quel chilometraggio vedi la Sanremo e la Sanremo il percorso sembra banale ma alla fine viene fatta la differenza sul Poggio che è una salita che quasi non non sembra neanche sembra un falso piano quasi e quindi tanti corridori si possono portare e secondo me dovrebbe essere anche un po' lo stato di forma a dettare le scelte e niente io se posso darò il mio contributo massimo per la causa azzurra e spero appunto di poterla vestire questa maglia a Glasgow ma il percorso più o meno si è capito che non è difficilissimo però è chiaro è sempre un mondiale quindi i mondiali alla fine sono più o meno tutti duri però la squadra la dovrà impostare comunque in una certa maniera nel senso per uomini veloci oppure non lo so te Simone facciamo finta che ricevi la chiamata che ruolo pensi di avere visto che comunque sei resistente sei veloce sei un attaccante quindi potresti essere anche uno da giocare da giocarsi magari nella fuga di mezzo di mezza gara più o meno te che ruolo ti vedresti? ma sì io penso di poter essere sfruttato su più versanti e so anche fare il lavoro sporco perché mi è capitato più di una volta di doverlo fare e l'ho sempre fatto direi egregiamente quindi un po' da quello che deciderà Albenna io ho detto do piena disponibilità alla causa azzurra e fondamentale sarebbe vestire la maglia e a un mondiale vestire la maglia azzurra per me mi ha sempre valorizzato molto e quindi mi farebbe piacere poi ovvio le scelte come ho sempre detto le fa le fa Daniele e comunque io qualsiasi ruolo mi viene attribuito io sono disponibile a farlo anche perché penso sia una bella emozione correre un mondiale a prescindere un po' dal ruolo che uno ha insomma credo che poi si crea un bel collettivo un gruppo una settimana di pseudo vacanza per poi terminare con il mondiale e hai fatto anche l'italiano a crono giusto se non sbaglio non sei andato male sei arrivato 4 mi sembra si quarto ho fatto oh ragazzi facevi il podio anche a crono cioè chi è ma guarda crono è nata così per caso la domenica della crono dello Svizzera perché è vero è già andato bene sì avevo fatto una buona crono la senza neanche fare tutto questo l'avevo presa un po' come ho detto vabbè faccio la crono fatta forte ma non è che mi metto lo stress il riscaldamento tutto insomma tutto quello che si fa per una crono e quindi ho detto dai porta a casa la bici due giorni almeno la uso perché non l'avevo mai usata era da ritiro di dicembre che non la usavo in pratica a parte le crono al giro e la bici e la bici da crono se vuoi fare il risultato la devi usare devi fare i lavori e tutto infatti l'anda si allena spesso ho fatto due giorni con la bici da crono e già all'italiano ho sentito comunque la differenza ero già più abituato riuscivo a tenere più la posizione comunque anche i vattaggi si avvicinano di più a quelli che riesci a fare con con la bicicletta da strada e quindi dai in futuro cercherò di coltivarla un po' di più questa questa disciplina e e perché no potrebbe essere anche una ormai una costante prendere parte a all'italiano a crono anche perché Simone sei vecchio cioè ragazzi hai sempre meno 4-5 anni di ciclismo a alto livello se guardiamo un po' la statistica mi spero anche un po' di più dai sono cresciuto sempre molto regolarmente quindi ora questo è un po' vecchia vecchia scuola non sei esploso a 20 anni no 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 io un po' anche per il fatto che ho iniziato relativamente tardi rispetto ad altri a correre un po' perché comunque non sono mai stato sfruttato come come sono sfruttati i giovani di adesso sono sempre cresciuto gradualmente e quindi sono fiducioso che ancora qualche cartuccia la posso sparare ora ti faccio una domanda Simo ma abbastanza seria si esce un po' dal tema simpatico allora parlavi del giro di Svizzera dove chiaramente è successo perché è successo con Gino Meder hai dedicato anche in parte la vittoria dell'italiano a lui e a famiglia eccetera ma si sa alla fine cosa è successo lì visto che ti eri in corsa chiaramente eri distante però tra voi corridori si è capito come mai entrambi Sheffield e Meder sono usciti in quella curva e cosa è successo realmente perché comunque Meder non lottava per la vittoria di tappa non era in classifica al contrario di Sheffield ad esempio si è capito io dico che era una discesa velocissima quella dell'albula e quella era un po' una curva una curva maledetta perché arrivavi giù a 100 all'ora e chiudeva all'ultimo quindi se per caso entravi con una traiettoria un filo un filo lungo un filo sbagliata e andavi andavi fuori e con le bici di adesso di certo non riesci a correggere la traiettoria come si faceva una volta cioè sono bici che sono delle spade in discesa quindi un po' quello e un po' secondo me doveva essere un po' un po' meno sottovalutata quella curva e appunto essere quantomeno indicata con dei segnalatori o qualcosa noi siamo arrivati in gruppetto dopo una quindicina di minuti che era successo il fatto e fortunatamente avevamo i segnalatori che ci indicavano che c'era stata una caduta c'era stato detto per radio e tutto se no anche in gruppetto comunque rischiavi di cadere di cadere perché arrivi veramente da un pezzo dritto a 100 all'ora 100-105 all'ora quindi quando ti attacchi ai freni ormai è tardi se non sai com'è la curva quindi fondamentalmente in parte è stato probabilmente un errore di valutazione della curva da parte dei corridori che sono caduti e chiaramente non è stata protetta bene dal punto di vista della sicurezza quando sei in corso è vero che abbiamo i file GPX e tutto io infatti oramai tengo sempre un occhio sul file e un occhio sulla strada per sapere dove vado a mettere le ruote purtroppo siamo sempre al limite quindi i punti potenzialmente fatali dovrebbero essere messi un po' più in sicurezza io mi auguro che appunto come ho già detto sia una cosa che faccia riflettere e che possa portare delle migliorie in futuro sulla nostra sicurezza ti chiedo una cosa poi Lore ti lascio la parola quanto quanta fortuna c'è dietro la scelta di lasciare la Gazprom a fine 2021 andare in Astana perché come sappiamo tutti poi la Gazprom ha chiuso battente all'inizio 2022 con tutta la confusione della guerra eccetera eccetera se eri sempre lì probabilmente non saresti qui adesso perché sicuramente la tua carriera avrebbe avuto uno stop ovviamente in qualche maniera e quindi forse non eri qui è stata una scelta oculata potevi rimanere lì oppure eri già sicuro di andare in Astana è stata una grande scelta ovviamente a posteriori ma io ormai avevo preso la decisione di cambiare di cambiare perché volevo a tutti i costi correre un grande giro che non avevo mai corso e alla fine le uniche squadre che mi davano la possibilità di correrlo erano poche e avevo avuto un po' di contatti in giro in qua e là anche con altre squadre e alla fine poi la la risposta più tempestiva e concreta è stata quella di Astana e quindi ci sono ritrovato qui da una parte fortuna e dall'altra comunque è anche una era stata una scelta comunque mirata e fondamentale per poi fare quello che volevo fare grande grande tre domande veloci sul Tour de France no non li chiede chi dice tra bing e qualsi perché deve mandare un video quella domanda a Simone non si può fare allora due domande due domande veloci la prima sulla Astana hai notizie dei tuoi compagni di squadra come stanno c'è qualcuno che secondo te farà potrebbe fare bene e Mark Cavendish ce la farà battere questo benedetto record delle vittorie al Tour secondo te ma allora la squadra la squadra c'è abbiamo visto anche anche Luz ha vinto entrambi i campionati nazionali e crono e strada e quindi può far bene nelle tappe e nella classifica abbiamo tanti altri corridori in primis Mark che è arrivato al Tour appositamente per puntare a quel successo che lo proietta più nella storia di quello che è già lo proietta direttamente in un'altra galassia e al giro ha fatto vedere di essere ancora un grande campione con lo sparo del velocista elegante però non c'è Thomas a questo De France vi dico che anche la tappa dove è caduto sulla linea d'arrivo se non gli scivolava la ruota quando è partito sulla striscia bianca ragazzi non ci andava lontano magari non vinceva ma non ci andava lontano comunque Mark quando gli dai fiducia e lo metti in condizione di poter far bene è difficile che sbagli può sbagliare una o due volte ma poi prima o poi te la te la inzecca perché è un campione non solo fisicamente ma anche un campione nella testa devi essere un campione nella testa per fare quello che ha fatto Mark ma visto che a Corso dello Svizzera c'era Teada se non sbaglio no? in fare a Corso dello Svizzera sì penso 27 anni che lo stiamo aspettando Teada e tutti l'anni ah Teada è un giovane interessato magari non è più giovanissimo ma siccome non è andato malissimo decimo e dovrebbe fare perché si è fatto un'asta di riparazione interna per acquistare corridori tra l'altro qualcuno ha preso Velasco se non sbaglio eh Mulan non mi ricordo qualcuno l'ha preso io avevo pochi soldi a un certo punto dico Teada però me lo fregano perché qualcuno c'era più soldi e Teada cioè cosa come dovrebbe fare Polonia forse Welta non si sa cosa può fare tu De France Teada ma Harold è uno di quei ragazzi super solari tranquilli un sudamericano doc proprio e comunque ci fai paura se dici sudamericano se dici così è pericoloso è uno da molto pacifico tranquillo e penso che lo stress non sappia neanche cosa sia perché proprio se lo guardi in faccia anche nella nella condizione più più strane magari triste che può essere sempre sempre super solare e allo Svizzera ha dimostrato di avere grandi gambe in salita e al tour magari il tour è sempre sempre il tour quindi è difficile essere competitivi là e e fa e no ho letto è venuto da ridere è un artista al massimo dai l'ho preparato io alla dopo scrive anche Lopez l'ha preparato lui l'ha preso Lorenzo Marrucci ha preso Velasco nella nostra Lega quindi t'hanno comprato e però secondo me può essere in super supporto per Luzio soprattutto perché Harold ha già fatto un tour e si è dimostrato un subito fondamentale per la Stana penso nel 2020 non c'è fiducia in Luzio ti dico i dati che vedo nell'app la gente chi l'aveva l'ha ceduto c'è poca fiducia perché quando era venuto in live con noi Luzienko quando era novembre l'anno scorso fine anno scorso disse che puntava tanto forte sulle classiche a parte l'hamster mi pare dove è andato benino poi Freccia e Liegi no e oltretutto poi penso che è stato un po' un rimediare la stagione puntando magari sul tour perché non era nei suoi piani all'inizio questo è quello che aveva detto a noi poi non lo so non ha fatto bene anzi si è ritirato mi sembra allo Svizzera dopo pochissime tappe è vero che ha vinto campionati di casa però insomma non è che c'era questa questa parterre de rois e quindi non c'è tanta fiducia su Luzienko però te dici che comunque è in palla Luzien è un guerriero e ora è stato un po' sfortunato perché aveva dimostrato di andare forte al Sicilia all'Amstel e poi purtroppo tra Freccia e Liegi si vede che stava già incubando il covid perché dopo qualche giorno Romandia ha riscontrato appunto che aveva il covid e ha dovuto mollare e stesso modo ha lavorato alla stragrande sul Teide prima dello Svizzera e poi siamo arrivati allo Svizzera e ha fatto una gran cronometro secondo me perché era arrivato undicesimo dodicesimo e alla prima crono e e poi dopo anche lì ha preso la febbre e quindi si è svegliato la mattina un po' di sfiga dai un po' di sfiga ha fatto la febbre poi è vero che quegli anni lì sono anni storti ma ma comunque secondo me può può comunque far bene magari se se non sta a puntare alla classifica ma punta a qualche etapa potrebbe fare degli ottimi risultati ti chiedono come c'è questo Federico è arrivato tardi Federico chiede vabbè quali sono i tuoi programmi di qui a fine stagione perché devo decidere se comprarti in una lega l'ha più o meno detto però vabbè il mondiale forse ancora non si sa forse Polonia quindi dobbiamo Polonia che è che è una gara interessante Polonia è un percorso interessante su un pari di tappe per te e poi dovrei fare la Welta in teoria ottimo ottimo quindi insomma gare world tour ci sono più mondiale e un altro ti chiede secondo me non bisogna dare per scontato che i campionati kazaki sono effettivamente svolti non so se hai letto la notizia dei campionati uzbeki che cazzo parla nell'uzbeki aspetta ti spiego perché nell'altra live è uscita la notizia nel giorno stesso il giovedì scorso che in Albania nei campionati nazionali era successo un casino perché c'era se non sbaglio ibe seba che è un fenomeno in Albania che vince tutto e praticamente è stato sconfitto dopo averne 27 10 di fila di campionati nazionali è stato sconfitto da due o tre corridori è arrivato terzo mi pare e lui ha denunciato all'UCI che c'era praticamente le moto che aiutavano quegli altri corridori gente che si attaccava alle macchine addirittura uno che ha fatto un giro solo poi si è nascosto in una foresta è uscito solamente all'ultimo tutto vero tutto vero e lui ha prove filmate e lui si è chiamato in live l'altra volta perché giustamente una roba del genere va documentata e insomma si è creato un po' di putiferio e dopo pochi giorni è uscita la notizia che in Uzbek meglio ancora in Uzbek i Uzbek hanno rilasciato le classifiche dei campionati nazionali ma in realtà non si sono svolti non ci sono stati hanno inventato quindi magari hanno giocato a carte e poi chi vinceva poi ci lamentiamo del ciclismo italiano capito in Italia ragazzi si sono svolti ci sono le prove è andato l'onda sulla Rai Simone ha vinto mando il file mando il file anche del quindi certifichi che Luzenko ha vinto sul campo certifico certifico ok perfetto abbiamo anche le prove ci sono le prove perfetto allora siamo a posto da quel punto di vista Simo ti lasciamo andare perché sicuramente ti avranno rotto i coglioni una settimana quanti interviste hai fatto sta settimana ho perso il conto pensa veramente però va bene voglio fare una dichiarazione prima che vada a vedere come te facessi scegli una gara da vincere una gara da vincere poi ti dico io quella che potrai vincere Coppa Sabatino no più di più io dico l'Amstel io dico l'Amstel ah ok in generale ok l'Amstel è molto come gara l'Amstel l'Iegi sono tutte corse che e Sanremo anche mi piace cazzo cioè tocchi piano eh Simone io ero andato l'Amstel però è fattibile il problema non è Simone ha delle qualità eccelse il problema è che ci sono soprattutto un elemento che per probabilmente cinque sei sette anni romperà le palle a tutti almeno 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 Pogaccia perché questo lì le fa tutte è un casino devi beccare l'anno in cui Pogaccia non le fa ti stai dietro comunque è una corse che l'Amstel però è imprevedibile guarda Gasparotto che non era considerato quando due giri mi posso per nascondere come ascolta Massimo una cosa poi ti lascio una cosa qualora tu ti trovassi a decidere una gara insomma sei in due te e Benili per favore non perdere ci sarà anche lui sputa sangue ma non perde da Benili a prescindere dalla gara che sia gara di world tour pro tour quella che ti pare non perde da Benili già la tappa del giro mi ha fatto morire quando siamo partiti in Fugaia e lui dicevo eppure non mi posso staccare non mi posso staccare la ruota non riuscivo neanche a dargli il cambio in quel momento lì e lui mi chiedeva e dicevo quando ti do il cambio che non ce la faccio sto perdendo le ruote quasi quanto è brutto da dietro Benili è tutto torto parecchio però anche da davanti non scherzano ma poi dai si vuole ciao grazie ciao grazie mandami il video quando ti pare entro domani mandami il video se no col capo che c'è me lo dimentico ciao grazie ancora grande per l'italiano Benili scattato a 100 km dall'arrivo al campionato irlandese ho letto dominio incontrastato ragazzi un fenomeno un fenomeno chi c'era a gareggiare Daniel Martini ti preoccupare ti preoccupare Sam Bennett ha fatto terzo si è svolto nessuno si è nascosto e quindi ha vinto una grande proprio io non vedo ancora in questa live Giorgio Boglas ho detto di chiamarlo ho trovato a 38.000 follower è lui il greco chi è questo è il greco che era in Uzbekistan la gola profonda diciamo che poi l'ha detta a quel suo compagno spagnolo è quel giornalista che è andato in Uzbekistan ma che giornalista è un corridore è un corridore che è andato in Uzbekistan è perché segue le classifiche che vogliamo andare perché poi ha visto ha fatto anche delle corse in Uzbekistan due volte campione greco Giorgio Boglas potrebbe essere il nostro nuovo il problema è che se lo chiamiamo la tire list parte verso l'uno però allora promettimi che prima o poi chiameremo Giorgio Boglas si no davvero seriamente e apriamo la rubrica più grandi scandali del ciclismo dai non lo snobbate ci vuole Boglas come ospite io lo pretendo scrivili su aggiungilo su Instagram scrivili se viene si parla del campionato di Uzbekistan tanto il Tour de France che cazzo mi fai il Tour de France il vento di secondo piano va bene gli scrivo anche a lui dai vediamo come allora il piazzaro dovrebbe entrare quando finisce il concerto dei Kiss quindi intorno all'undice e mezzo mezzanotte in teoria perché avrebbe dei Kiss a Luca tra l'altro sono preoccupato io che sei mascherato di bianco no per una persona per una persona per chi è? perché l'altra volta abbiamo parlato del campionato albanese no questa volta del campionato Uzbeko e non vedo più di Leo o è partito in missione laggiù per verificare e è lui che sta dando tutte queste notizie oppure cioè era il suo il suo campo questo sì questo ciclismo di alto livello probabilmente lo affascina direi a me lo affascinano più le pinte però di dirla però no di Leo è se viene Voglas si chiama anche di Leo in live sì assolutamente in greco parlano in greco parlano tutti e due allora allora nel frattempo ringraziamo tutti quelli che stanno guardando i video che abbiamo fatto Yelmullah sulle tappe del tour i favoriti la puntata di bike di stasera che ha fatto un ottimo share ci hanno detto quindi grazie a tutti perché comunque stiamo stiamo aumentando le visualizzazioni e questo ci fa ci fa piacere detto questo io potrei anche partire con la tier list perché però devo crearlo io ho creato quella della ma baccani che dicono che non vedono attenzione attenzione il bacca stasera non c'è non lo vede non si vede non si sa se c'è non c'è perché siamo arrivati al momento è arrivato al momento incredibile è vero aspetta li scrivo li scrivo su instagram scrivo su instagram eh baccani ha ceduto tutte le azioni ma sbagliato perché è arrivato il momento baccani deve aspetta baccani deve per forza entrare in live anche 5 minuti ci sei gli scrivo presento la tua caricatura attenzione è arrivata finalmente è arrivata dopo mesi c'è c'è baccani c'è questa è la risposta e anche questo argomento sicuramente è un argomento più interessante del 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 tour de france ovviamente allora mettiamo la carica ah devi stare scrivendo sta scrivendo va te scrivi giusto allora io vi faccio vedere la foto che mi ha mandato no fede se riesco più tardi ti scrivo più tardi oh ok vabbè allora vabbè però intanto la presentiamo poi se se entra baccani la facciamo rivedere dai 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 allora è l'attimo perché la sto scaricando da 8 miliardi di foto e allora questa è la foto che mi aveva mandato il bacca e gli ho detto guarda mandami una foto di frontale e ti faccio fare la caricatura è vecchia cioè è vecchia cazzo 2000 è del fine 2022 quindi c'è voluto sì sì fine 2022 quindi c'è voluto tra l'altro c'è la data all'incontraglio il bacca qui non era in Italia dove era che è il 2022 12-15 questa è la foto del bacca e ora vi faccio vedere che gli abbiamo fatto la caricatura vorrei un giudizio da da voi sulla caricatura del bacca è lui ragazzi è lui è baccani assomiglia assomiglia al bacca assomiglia anche qua al primo Steven Seagal Rubeno 2.0 con dietro le botti baccani due ore si mettete like ragazzi mettete like assolutamente luco giornalista d'assare è vanta sai che bai non c'è chiuso e dopo aver tornato 12-15 un metro vedi però alla fine le cose si ottengono alla fine le cose si ottengono al parese tocca no dai a parte era quello di stare nascosto mancano le botti manca la birra nuovo personaggio di Marefuori bellissima troppo bello no l'avete migliorato troppo non vedo le birre mancano le botte dietro la caricatura Dea Baccafede cosa vuol dire non capisco poi sembra uno spacciatore della maravita serba wanted dead all facciamoci amici anche i serbi dopo gli anni si tutto l'est poi gli ho scritto Baccani è giusto sembra una bomber furti in villa domani nevica calma Elena calma calma caricatura del maiale stiamo attendendo un video che devo mixarlo domani per fare un reel quello che chiedevo anche a Velasco prima che tra l'altro è già mandato stiamo attendendo anche il giudizio del maiale su una cosa che poi lo vedrete domani su Instagram quanto costa eh te l'ha detto lo Svizzero 1234 euro un rene e una casa sembra intelligente bacca intelligente non so se avete visto a proposito di chiudere come le bestie non siete messaggi e ti inizio di Sanfare verso mezzanotte no mezzanotte no avete scritto a Sefa si si ragazzi Sefa per chiudere l'argomento per chiudere l'argomento campionati nazionali dato che ormai sono un caso mondiale perché dopo l'Albania l'Uzbekistan anche la Svezia eh ci ha deliziati con qualcosa di orribile tipo tipo la notizia è questa che praticamente in Svezia il comitato di cittadini ha chiesto la cancellazione delle prove nazionali perché si svolgevano in dei luoghi che erano troppo vicini a dove giocano i bambini non so se hai capito perché perché le biciclette sono come le bombe no vabbè perché ci sono anche le macchine capito però cioè siamo arrivati al punto che dei genitori non vogliono che ci sia il campionato nazionale vabbè svedese vabbè non è poi chissà cosa però comunque e praticamente gli è toccato spostarlo in un autodromo e praticamente il campionato svedese si è corso su un autodromo in un autodromo tutto piatto quindi zero salita in pratica circuiti a parte probabilmente c'è niente però cioè perché un comitato di genitori aveva richiesto l'annullamento delle prove vabbè un po' una follia stavere dobbiamo chiamare anche qualcuno della io vi dico chiama le famiglie chiama una famiglia al femminile aggiungi una svedese a caso che ha dei figli così a caso ho capito vabbè che in Svezia ora non ci sono corridori però cioè ma ti sembra una motivazione cioè ora ci giocano i bambini i bambini ti hanno a casa se c'è campionato nazionale non ho capito io scusa non è che non ho capito che motivazione è questa e hanno dato anche ragione l'hanno sposato in un autodromo cioè è assurdo secondo me veramente gente che dice io non voglio il campionato nazionale perché passano le bici e le macchine davanti a casa mia cioè roba proprio una follia totale una pazzia totale questa è la pazzia estrema con il mezzo di Davide luna 1931 non lo posso far vedere però leggete cosa c'è non lo non lo no non farlo vedere sì assolutamente sì ho già messo la targa oggi ero lì non lo commento sono tutti questo lo metto invece questo sì serve milfona svedese eh sì tipo vittoria silveston no cos'era la svedese lei eh sì sì quella ha fatto un film con cercherini ma chi è che l'ha scritto allora 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 chi è che l'ha scritto il commento sì sì l'abbiamo già ne abbiamo già parlato di questo Matteo oh eh cazzo l'ha scritto Davide Luna 91 1991 non lo trovo eh è recente non farlo vedere credevo è recente è recente si vede io a me mi cancellano dei commenti qualcuno sì è la mafia probabilmente è sul ah aspetta no è sul canale viola è sul canale viola ah scusa 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 è vero è vero no ah già perché te non le vedi ma te le vedi anche qui i commenti su stream te le vedi ma non li vedi se non li metti no le puoi vedere perché ah già perché te non sei con l'account quello d'amministratore io non vedo un cazzo ma l'avete sentita l'ultima di Godou sì che ha litigato anche con ha fatto fuori storie praticamente dalla squadra doveva essere al tour e siccome gli sta sul cazzo e ha fatto fuori anche lui praticamente corre da solo Godou e Godou si preannuncia una tragedia ah aspetta aspetta perché ho finito il documentario di Netflix no no l'una cosa sola no mi rifiuto mi rifiuto me la vado a chi aspetta no 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 aggiungo io una cosa che mi sono dimenticato di dire l'altra volta manca il gesto simbolo del tour de France nel documentario net sì vabbè ma perché sanno un cazzo non sanno cioè parlano attacca tizio attacca caio poi mettono le manca? si ha detto manca? no il gesto simbolo no è che si sono dati la mano poco a Ceraving no vabbè sì ma quello vabbè lasciamo perdere dai no vabbè mettono delle immagini a caso tipo Godou è nel gruppo di testa e poi mettono l'immagine di Godou che io mi ricordo che era staccato e prendono quel frame di 3 secondi con Godou staccato cioè anche a livello cronologico c'è tanti errori però lasciamo perdere ecco era già stata citata questa cosa qui però io voglio ribadire il concetto e poi chiudiamo definitivamente no pensa che se domani annullano la tappa al Tour de France perché domani là perché i bambini giocano nella strada a Bilbao allora io voglio prendere la tappa prima del nel 2022 la tappa dell'Urdo Takam però la tappa prima da Peragut a Peragut questa è la classifica ok questa questa è la classifica dell'anno scorso al Peragut quindi la tappa prima dell'Urdo Takam quindi prima dell'ultima tappa di montagna e poi c'era la crono allora se avete visto il documentario di Netflix fanno vedere e sicuramente è tutto montato a presa di culo per la gente che guarda Godou che rimonta Thomas che è fuori a salita e poi Godou che dice no perché gli ultimi 500 cioè sembra che Godou stia se supera Thomas involata sull'Urdo Takam arrivatello ragazzi ma che cazzo state raccontando ora c'è una bestemmia era a tre minuti cane delle berbe a tre cazzo di minuti ma perché devi raccontare le stronzate se Godou staccava Thomas di 15 secondi arrivava comunque quarto porca di quella puttana quarto arrivava ma se lo staccava di due minuti e mezzo arrivava quarto perché aveva tre minuti perché aveva fatto cagare nelle tappe precedenti rispetto a Thomas quindi che cazzo crei enfasi per un podio che non non c'era mai questa lotta del podio non c'è mai stata no hanno fatto un episodio intero del cazzo su Godou che potrebbe arrivare a podio non è mai esistita questa cosa qui mai esistita quindi Netflix puoi tranquillamente andare a perché se bisogna raccontare il ciclismo e prendere per il culo la gente allora non lo raccontate fate le serie di merda che continuate a fare e basta perché se volete raccontare uno sport raccontate la verità poi enfatizzatela ma che sia la verità non dite le stronzate Godou lì che dopo sei mesi probabilmente hanno fatto l'intervista ascolta ti denuncia Netflix alla fine ma cosa denuncia fanno delle cagate fanno delle cagate fanno dai ragazzi cioè Dio Cristo ma davvero ma davvero e purtroppo la gente il 50% anche forse il 60 il 70 che guarderà quella serie non capisce non sa è una totale stronzata quell'episodio lì perché non è esistito è come non lo so è una roba inventata è come se ti dicano che esistono i folletti e gli ignomi basta non si pensa più non la guarda più non la guarda guardata non dovevi guardare basta ma avranno sì è uguale ma è chiaramente Basta io me ne vado è altro che dire mi fanno un po' da spazio L'Ore sei d'accordo con me l'hai visto te l'avete finito di vedere sì sì basta non ne parliamo più andiamo avanti allora direi tier list dai ci siamo vai allora però siccome la maia gialla è già fatta però la facciamo la facciamo all'ultimo chiaramente no e partiamo con la verde o con la pua cosa volete fare la verde fai scegliere a chi ascolta ragazzi con cosa volete partire verde o a pua vediamo un po' guardate voi la chat perché io intanto creo creo la tier ma il Berta è a caccia il Berta sta tornando a casa che era la scena aziendale cercando un'altra carcassa sta squagliando da devorare non vorrei avesse mangiato anche il forcone che aveva in mano perché prima dell'inizio della live stava stava mangiando sondaggio necessario un sondaggio subito perché dai no così un po' asquanto necessario sondaggio siamo lì è più verde forse maglia verde dai maglia verde dai ma non mi sembra allora maglia verde allora maglia verde maglia verde maglia verde vediamo un po' che cazzarola posso mettere poi dai due parole sul giro donne le diciamo sì sì in fondo sì assolutamente sì 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 quello sì parte domani per fortuna parte perché sembrava che fino alla settimana scorsa era incerto allora maglia verde ragazzi allora ditemi dei nomi da inserire nella tier list per la maglia verde ah proprio da fare da zero eh sì 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 sono da farla allora dell'Alpesin mettiamo Wanderpool domanda oltre a Philips lui ha detto oggi che non è interessato quindi quindi mettiamo solo Philips ok eh Arkea c'è nessuno di interessante secondo voi no ok Astana mettiamo chiaramente Cavendish eh poi chi mettiamo eh c'è Dla Bahrain Bauhaus non credo faccia mettiamo Bauhaus mettiamo Bauhaus e poi c'è 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 vediamo un po' forse la squadra Dela Iaco Alula Gronewegen Gronewegen non c'è Jordi Meus io metterei Jordi Meus ovviamente Van Poppel lo mettiamo perché anche lì non si è ancora capito chi farà le volate tra i due io non le mettiamo quindi Meus Van Poppel Kofidis chi mettiamo nessuno chi c'è Kofidis nessuno c'è Zingle ma non credo la follia se Zingle lotta per la maglia verde DSM Mayhofer non c'è ma già è vero posso andare avanti posso andare avanti DSM è Wellsford però ah Wellsford no Mayhofer Wellsford vabbè mettiamo magari un generico EF non hanno nessuno credo per le volate EF la Star Trek e l'EF qual è? Magnus Cork è Magnus Cork infatti Magnus Cork ci sta ma mai poi 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 è una cometa non fa il tour a regola Grupa Ma chiaramente non c'è De Marpe che l'ha fatto fuori Godou e quindi Grupa Ma nessuno Ineos nessuno Intermachet mettiamo Girmai certo che sì poi Israel Israel c'è l'unico è Corbin Strong che potrebbe fare qualcosa andiamo avanti Jumbo Visma metteremo due due almeno Van Art e Laporte poi vediamo poi sulla Laporte ci sono un po' di dubbi ma parecchi anche su Van Art la Lotto Caleb Iwan Caleb Evne Evne Caleb Evne e la Movistar vabbè a Aramburu però no mettiamo Aramburu ragazzi mettiamo Aramburu della Movistar vediamo Aramburu della Movistar lo mettiamo in chat sì o no 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 ok perfetto no vedo già troppi no per fare numero ok sì della Cofidis c'è Brian Cocard che ci siamo dimenticati ah eh a mettere Cocard 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 no non male all'aspetta ritorno alla Cofidis 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 ABC Cofidis Cofidis Cocard eccolo qui e poi eravamo alla Quickstep metto Jakobsen ovviamente poi Sagan di diritto Sagan Ubriaco grande numero uno e Trek Pedersen Mats ragazzi abbiamo già sull'app ci dovrebbero già essere credo le maglie nuove della Trek l'abbiamo l'abbiamo messe e tra l'altro c'è anche sì dovrebbe esserci anche Simons in versione maglia americana che è favolosa andate a vedere sull'app perché è tanta roba e UAE praticamente non hanno nessuno se non Trentin forse ma chiaramente non credo proprio attenzione c'è Kristoff sì Kristoff è da mettere ok ce l'abbiamo tutti ora le metto dentro e si parte Simons poi lo faccio vedere dopo Tavind ha sempre la maglia di campione UK che tu sai Fred Wright ha vinto allora metto l'altra metto l'altra caricatura ok ci siamo ragazzi eccoci allora dovrebbero esserci tutte allora si parte questa tier list eccola qua tier list maglia verde pochi nomi rispetto al solito dico la verità eravamo abituati a qualche nome in più allora cosa mettiamo qua come era divisa la cosa 1-3 mettiamo le stelline cosa mettiamo qui facciamo le stelline eh sì perché qui conta solo alla fine chi arriva primo quindi le corne le mettiamo ovviamente allora emoji corn ragazzi scusate ma Matteo ci rifiutiamo di mettere questo nome rispondo io per chess ball oh ragazzi ci vuole il frigo eh non le corne ah il frigo vuoi? ah il frigo no vabbè vogliono il frigo giustamente il frigorifero è diventato quello aspetta come c'era l'emoji? eh sì sì è un altro più però cazzo emoji frigo rifero senti il tuo amico vediamo un po' chi è il mio amico scusa lui se Gorgio si ha risposto intanto cazzo l'emoji del frigorifero non la trovo no no non trovo non trovo l'emoji di un frigorifero cosa che emoji possiamo mettere invece di un frigorifero ma come non la trovi? ce le avevo era un'immagine non era suggeriscono ghiaccio se non c'è il frigo il ghiaccio Jacobs fuori tempo massimo sulla rampa di Bilbao l'ha già detto anche lui eh Jacobs che ha detto che sa che farà molta fatica e che dovrà lottare contro il tempo massimo più e più volte vogliono un po' Gershaw vogliono un po' Gershaw bisogna mettere un po' in tutto qualcuno dice anche Fred Wright però Fred Wright mi sembra che andrà a caccia di tappe eh potrebbe Fred Wright potrebbe essere molto interessante a questo Tour de France così la butto lì però sì chiaramente allora sto cercando delle oggi possiamo mettere un gelato o il ghiaccio il ghiaccio vorrebbe essere ghiaccio vai in questo momento non ho bisogno vai cubetto di ghiaccio allora ragazzi ci siamo partiamo siamo quella tier list dicono che manca Van Der Poel ma eh se è detto l'ho detto ha detto perché l'ho dichiarato lui va bene ma era ma uno allora chi ci metti nel ghiaccio scusa cioè capisco ti voglio dire non cioè non è che vanno messi tutti quelli che la vinceranno perché altrimenti cioè chi volete aggiungere chi volete aggiungere Pogasar e Van Der Poel Van Der Poel Pogasar mettiamo buttiamoli lì e vediamo dove vanno a finire cioè non è quello il punto allora Van Der Poel e anche Fred Wright no no vabbè va bene Van Der Poel Pogasar ah Pogasar c'è già la maglia di campione sloveno grande l'hanno già fatta e e e e Fred Wright giusto mi ricordo che faccia a Fred Wright che cazzo è Fred Wright eccolo qui che ce l'ho io tra l'altro se mi ha fatto un praff ha fatto cagare allora ma aggiungiamo aggiungiamo allora eh edit scegli file tra l'altro questa la nostra tireless piace anche ad altre realtà sì ci hanno un po' sul web hanno copiato il format uscendo in anticipo dei canali ci hanno detto ci hanno linkato oggi un video vabbè ci sta dai ma è giusto noi noi siamo qui per è giusto che che si parli di ciclismo dai a prescindere da anzi noi siamo ben eh contenti no che si espanda la voce di ciclismo per quel che si può poi se qualcuno copia va bene uguale Wellsford e Varenskjod dicono allora Wellsford io ve lo posso anche mettere Varenskjod sarebbe una follia cioè non credo avendo Christophe che Varenskjod li vada a rompere i coglioni onestamente cioè credo poi magari non lo so te che dici mulla non lo so non lo so dai Varenskjod non ce la può fa fa la maglia verde a Tour de France all'esordi dai anche secondo me però sai DSM giusto corre Wellsford sì anche Westford vabbè dai mettiamoci così abbiamo gente per il frigo cioè Westford può fare qualche piazzamento magari ok aggiunto anche Westford vai la maglia verde ragazzi è dura la maglia verde devi andare a fare gli sprint sprint traguardi volanti qualche volta devi andare in fuga la maglia verde è dura cioè non è che la prendi solo a vincere due tappe cioè ragazzi Gronewegen c'è ma Gronewegen c'è ma Gronewegen non la vince mai mai e poi mai perché Gronewegen si risparmia e già tanto si arriva in fondo per vincere cioè non gliene frega assolutamente niente a lui della maglia verde ma anche se gliene fregasse qualcosa allora dai che poi quest'anno visto che ci sono alcune tappe per velocisti anche nell'ultima settimana più di una a differenza degli anni passati faranno cioè faranno in modo di arrivare a Parigi tenendo botta la maggior parte dei velocisti allora dai iniziamo iniziamo poi anche Bolle doveva tirare le volate cioè doveva tentare di tirare le volate a cave anche se poi spero di no perché lo riporta indietro però allora mettiamo i big name in fondo dai così dai via allora partiamo con Wellsford della DSM in chat ragazzi Wellsford dove lo mettiamo 5 stelle 4 stelle 2 stelle 1 stella o frigo barra ghiaccio mettiamo al fresco diamo un po' in chat cosa rispondono al riguardo allora Wellsford comunque quest'anno non è andato male io parecelo io in Lega vorrei di una cazzata parecelo io e potrei anche metterlo ti dico la verità non lo so non ce la vengo si sono pochi velocisti infatti no bravo DSM assoluto no capito il problema è che ci sono altri vindici eh qui c'è un parterre a livello di ruote veloci di un certo tipo qui a battitore meno 100 gradi ghiaccio sciotto frigo 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 quindi Wellsford primo nome che va nel congelatore è ufficiale si è ufficiale ok Bauhaus Tim Bahrain con un altro no io invece a Bauhaus io dico che secondo me farà almeno 2-3 piazzamenti nei top 3 ma che vuol dire ma questo un centaniente con la maglia verde e comunque non lo mettono che comunque a qualche punto lo farà ma non centano uno la maglia verde è un'altra ricerca cioè la maglia verde un centaniente con i piazzamenti 1-2 stelle io a Bauhaus si vederei perché è una lotta si piazzerà nella maglia verde non 3 pini ma si piazzerà come vanno 3 mesi di ferie sono per il congelatore che sono per lo svizzero frigo frigo 1-2 1-1 stella 3 stelle 1-2 2 2 ragazzi è una o due stelle è una stella è giusto ma va quest'anno ha fatto un minimo salto di qualità si nelle tappe piatte piatte eh ma al tour ce ne è almeno 4 così almeno 4 Bauhaus una stella dai Dylan Grone Wegen ghiaccio una stella non sono d'accordo con Mulai gli do una stella una stella davanti a Bauhaus dai ragazzi 5 dico 2 perché con lui sei proprio allora con lui sei proprio sicuro che non la vincerà perché cioè non gliene frega minimamente ma figurati se si va a fare gli sprint si risparmia per poi deve per forza vincere una tappa o due cioè 4 baguette si risparmia non lo so che dite beh no che dite se li guardiamo lì mi sembra che stia vincendo il 2 si c'è tanti 2 tanti 2 anche qualche 3 a parte c'è un KFN che ha scritto 8 ragazzi la maglia verde però come Grone Wegen è dura 2 comunque ha vinto il 2 perché il 2 è quello più Grone Wegen è una sorpresa allora adesso siamo già sul nome caldo Mathieu Van Der Poel allora lui ha dichiarato che non gliene frega niente a parte che la dichiarazione di questa di questi io non ci credo più per niente a nessuno però a parte svisceriamo punti pro e contro allora il contro è che lui ha dichiarato che non gliene frega un cazzo non è uno che effettivamente storicamente in questi in questi tre anni che è arrivato nel ciclismo con certo peso se ne è mai fregato il cazzo delle maglie a punti a giro d'Italia sembrava con la ciclamino e poi invece non gliene fregato niente quindi storicamente non gliene frega nulla le maglie a punti però visto che secondo me correrà come ha corso il giro all'ascosto però Tapp per lui non ce ne sono tantissime eh la prima ma la prima ma anche la prima si costa vedi ascolta la prima la prima e la seconda si a Becker è vero c'è spazio per recuperare la prima si anche la seconda è lontano già Schibell quindi c'è tempo per rientrare però cioè se non si muovono Pogacar e Wingergaard va bene ma se si muovono loro due non lo so se Banarte e Van Der Poel ce la fanno nelle prime due tappe secondo me Pogacar e Wingergaard poi magari sbaglio alla Pogacar perché secondo me non è ancora al 100% Wingergaard non gli interessa prendere la maglia subito e infatti faranno il gioco di Van Aert se ha le gambe le prime tappe come l'anno scorso secondo me si limiteranno a stare davanti infatti ci sta poi ragazzi parliamo di una tragedia parliamo di una tragedia non so se oggi avete visto la presentazione del tu delle squadre l'avete vista si piove in parte si sta piovendo si sta piovendo piove piove domani sabato i baschi i baschi sono così no ragazzi con quei percorsi lì due tappe con la pioggia anche pioggerellina succede di tutto arrivederci davvero stavolta perché speriamo che quei due uno di due comunque perché sennò sono cazzi quanti è una rovina quanti no io ti dico solo quanti è questo il sondaggio della serata quanti se piove se ne vanno di classifica se ne vanno nei primi due giorni quanti questa è la mia domanda se pioverà davvero perché oggi piove domani ha messo pioggia ha visto il meteo sabato è incerto con strade bagnate quanti di classifica se ne andranno nei primi due giorni non lo so il sondaggio della serata è questo comunque si fa la fine comunque il primo che cade è Pinot sempre allora Van Der Poel comunque torniamo a Van Der Poel c'è gente che frigo 4 2 3 2 3 siamo lì aveva vinto il 3 secondo me prendo Gronewegen o Virmani così Gronewegen 3 dai mettiamo 3 Van Der Poel comunque si è visto diversi aveva vinto il 3 sì comunque c'era comunque il 3 perché il pro il pro della maglia a punti di Van Der Poel potrebbe essere quella che se andrà tante volte in fuga come ha fatto al Giro d'Italia l'anno scorso e magari vuole rompere un po' coglioni a Van Hart indirettamente qualora Van Hart facesse classifica per la maglia a punti anche lì ci sono dei dubbi grossi magari potrebbe essere un po' una così per romperli un po' coglioni visto che loro due comunque si stuzzica dai 3 ha vinto La Port La Port io non lo so sulla Port mi assento un attimo ok allora anche qui pro e contro sembra che comunque La Port quest'anno sarebbe un velocista puro perché ha vinto comunque le volate al dove era al Delfinato dove era che l'ha vinto io penso che la gerarchia sia abbastanza chiara il discorso è legato a quanto Van Hart tenga questa classifica pare di no in base alle sue dichiarazioni oggi ha dichiarato e a quanto resterà quanto resterà il tour perché c'è questo punto di domanda sulla moglie che aspetta un bambino e dovrebbe nascere quindi ma quando cazzo nasce sto bimbo luglio però non si sa esattamente io gli darei una stellina solo perché nel caso Van Hart andasse a casa andasse a casa ci potrebbe puntare io allora il problema ora qui sta vincendo tra il 3 e 4 comunque La Port tra il 3 e 4 per me i foriti sono altri ragazzi però il discorso di La Port è che La Port cioè le volate allo Svizzera Van Hart l'ha fatta una è arrivata secondo terza non è arrivata e La Port l'ha vinta la volata La Port ha fatto un ulteriore salto di qualità quest'anno e secondo me se Van Hart non ha voglia di impegnarsi nella maglia verde cosa che ha dichiarato le quotazioni La Port per la maglia verde potrebbero salire clamorosamente perché La Port ha il vantaggio di poter vincere quelle gare un po' più nervose poter andare anche in fuga magari cosa che i velocisti puri non hanno non fanno e non faranno però chiaramente c'è Van Hart davanti quindi io non so a me sembra che sia un tre stelle il discorso è chi farà le volate Van Hart o La Port perché se ragazzi manca quindi le farà Van Hart però le farà qualcuna la farà o no o zero proprio o almeno uno o due le farà quindi La Port lavorerà tanto nelle tappe di pianura nelle tappe mosse non lo so ragazzi cioè giusto metterla nella tire list come alternativa Van Hart nel caso Van Hart però ragazzi allora guardando la formazione Vingegaard ok Kelderman Kuss stop questa è l'unica cioè hanno fatto una formazione sembra per il nord Van Hoidonk Van Barley La Port è una grande squadra è una grande squadra ma in salita in salita ha Kuss e Kelderman che perché Van Hart no? aspetta aspetta infatti se Van Hart fa la maglia verde come l'anno scorso non è detto che ti faccia una terza settimana come l'anno scorso se c'è anche il mondiale non è detto capito quindi se Van Hart deve avere il ruolo di Rodney ok cioè Van Hart a un certo punto nelle bookmakers l'ha dato tipo a sei come vincitore del tour cioè era uno dei poi poi l'hanno abbassato clamorosamente ora è a cento e passo però c'era stato un momento in cui probabilmente avevano visto che lui non faceva volate non andava più a crono come prima ha detto questo lì è migliorato dal mezz'anno in salita che ha perso da altre parti probabilmente credo che l'abbiano ragionata così non lo so però su questa formazione qui rispetto all'anno scorso manca Roglic e Roglic l'ha aiutato l'ha aiutato poco Bingigan nella terza settimana perché chiaramente poi si ritirò e a parte che dicono che Beno comunque un po' in salita va però poi comunque Van Hart andrà in salita verrai che lo vedrete in salita e poi cioè l'unica incognita su questo adesso d'accordo quale è a reale su questa squadra è è Kuss perché ha fatto il giro d'Italia magari lo lasceranno un po' all'inizio un po' in disparte magari lo verrà fuori in terza settimana secondo me quindi faranno un po' per uno e alla fine ci sarà Kuss che magari avrà risparmiato nelle due settimane però Kelderman è un Gregario e lo farà lo farà si poi proverà non è come per fare classifica però lì non è come tante altre squadre lì lo fa il Gregario vai dammi retta comunque la porta tre stelle tanto quando si arriva a Van Aert si riapre questa discussione allora siamo a Meus Mulla a te la parola Jordi Meus ragazzi non parlo dei miei pupilli lascia la parola alla chat Jordi Meus io voglio vedere tanti cubetti di ghiaccio per Jordi Meus 4 Meus 1 1 la chat è buona questa sera 1 4 1 1 1 favorito insieme a Jacop 1 1 1 dai vedo tanti uni ghiaccio corna frigo frigo antartide in terra 1 2 stelle ma sono 5 però eh si vabbè quelli che dicono 5 chiaramente perculano per cercare di rialzarle un pochino ma chi è è il velocista della Bora insieme a Van Popper vedo i 4 eh dai uno dai si salva dal ghiaccio con quei 4 e quei 5 chiaramente rubati e si mette qua Danny Van Popper secondo me io dico la mia forse più velocista Van Popper di Meus vedremo faranno un po' a testa dai secondo me si però lui ha sempre detto che non gli piace gli piace fare il Grigario non eh c'ha delle vettorie chiaramente alle spalle che gli consentono di dire questo cosa c'è Meus è uno Meus ho detto di Van Popper ah Van Popper ha sempre detto che preferisce fare l'ultimo uomo che è velocista oh comunque l'esclusione di Bennett è pesante secondo me Bennett caratterialmente alla Quickstep ha fatto casino la labora ora lo escludono da Arturo cioè secondo me Bennett caratterialmente è da rivedere eh si è da rivedere quando fra un po' smette eh no per dire che sicuramente allora comunque anche Van Popper è l'uno diciamo ma ma mettiamo dietro a Meus dai Brian Cocard Cocard il problema è che lui ci punterebbe anche ma Cocard ma due stelle a Cocard ci possono costare ma come fa a piazzarsi in volata con tutti questi vini Cocard però ragazzi 1-1 frico non c'è fiducia in Brian chi acciolo sì in effetti ha insomma gli avversari sono decisamente più forti quindi eh uno dai uno anche Brian Cocard mettiamo davanti a tutti la top 25 eh Magnus Cort Nielsen frigo 0-0 assoluto Magnus Cort Nielsen lui punta la maglia qua lo sappiamo no come erano scorre lo 0 più assoluto poi ora ha fatto anche il giro ragazzi che ha fatto anche il giro un po' fa la maglia verde perché non ce ne ha Plutone non ce ne hai proprio non ce ne proprio no no sì ma beh però cioè dopo il giro fatto oltretutto non è che c'era comunque ha vinto una tappa ha fatto anche il piazzamento non ce la può fare a fare la maglia verde dai Arturo no no sì ma rispetto ma non è che non ce la può fare o non ne frega niente dai attenzione siamo a un nome molto caldo siamo a un nome molto caldo Girmai Biniam Girmai io dico la mia io darei a lui almeno 4 stelle addirittura sì vediamo perché lui è in grado anche di fare quelle volatine durante le tappe sì ha dimostrato le volate di gruppo ha dimostrato di essere in condizione sulle volate di gruppo ovviamente rispetto a Philips e Jakobs ha qualcosa in meno però rispetto a questi tiene un po' meglio diciamo sul ah beh comunque diciamo che è uno che può piazzarsi nel podio di una classifica siamo su 3-4-2 3-4-4 3-3-3-4 3-3-3 quindi 3-3-3 siamo su fra il 3 e il 4 vedo poi c'è qualche 2 cioè siamo tappo 3-3-3 3-4-3-4-5 io direi un 3 dai però c'è anche sono anche tanti 4 qualche 2 giustamente 4 quindi no no 3 magari mettilo davanti alla porta dai nome interessante io non mi esprimo Caleb Evn Caleb Evn il mitico che dire fate voi tanto deve stare in piedi questa è la cosa più importante fate voi fate voi fate voi questa è la mettetelo un po' dove vi pare fate fatene quel che vi pare frigo 3-3 pomodori però siamo dal frigo a 3 quindi chi dice 5-4-3 dai ci prende per il culo è uguale perché il nostro ruolo è anche quello di capire chi prende per il culo e scattare no non è quello perché ognuno dice la sua è difficile è difficile mi stecca in frigo cable circolo porale attico zero dai ragazzi cioè se ci vuol dare una stella e la diamo ma ma come qui vedo danno di quel ghiaccio che mi ha messo una macedonia qui secondo me ha occhio così a 21-2 cioè è in superforma cioè perché in superforma no non è in superforma cosa ha fatto ah sì è in superforma anche al tour del belgio miglior piazzamento onorata settimo poi ha vinto una classica che per esempio c'era lui e cinque scappate di casa no vabbè c'era meglio punto 2 2 vabbè 2 hi Mr. President nice to meet you non volevo salutare Joe che si è collegato Biden c'è Joe Biden nonostante l'orario ciao Biden Peter Sagan ragazzi nome romantico al suo ultimo sotto il ghiaccio cosa c'è cosa sotto il ghiaccio tra l'altro si è schiantato l'altro giorno in una maniera che in cui cioè qualsiasi altra persona si sarebbe rotta la clavicola allo sterno lui si è rialzato in un attimo e manca poco mettere le mani addosso a uno della DSM la carica c'è cioè il morale c'è quello gli va gli va riconosciuto che è un altro che io prevedo una raffica di piazzamenti nel senso un altro che avesse fatto una caduta del genere si sarebbe ritirato e non avrebbe corso il tour lui si è rialzato e manca poco fa una rissa ha cercato una rissa chiaramente con uno della DSM andandogli nel viso a urlare quindi c'è c'è sicuramente paura non ce n'è però vedo per dire ma secondo me Sagan era Bitner infatti punterà una vittoria di troppo credo lo sai che Bitner se si alzava gli davano un schiaffo Sagan guarda solo perché ha vinto ne ha vinte sette comunque per la gloria per il palmarès due stelle gliele darei due decilore sì non lo so mettiamo niente scusa gin tonic dice gin tonic infatti è stato è stato si è capito per rispetto uno dai mettiamo mettiamo uno perché uno in testa dai in testa a quelli giusto il buon vecchio Alexander Christoph e quest'anno comunque non è andato malissimo è sempre lui chiude sempre il gruppo dei perdenti nelle classiche ormai ha questo già ti fa capire decisione decisione ha vinto per ora una tappa solo all'Algarve quest'anno ah no al tour of norway anche quindi due successi di tappa quest'anno qui c'è indecisione ragazzi 35 anni l'anno scorso comunque al tour de france non ha fatto chissà cosa però a 34 anni ha corso una buona stagione l'anno scorso migliore del 2020-21 20 e 21 era male nel 22 ha fatto bene quest'anno è sulla falsariga degli anni precedenti mi sembra che incredibilmente stia vincendo un 2 una specie di 2 eh perché Christophe comunque lui non è che ci punta però è un cagnaccio eh addirittura c'è una seggio alla rotelle credo che cagli ohioi ragazzi va bene allora Christophe 2 ora mettilo in fondo però lì dal resto basito perché qua tanti ghiaccio c'erano tanti ghiaccio circolopolare eccetera allora siamo agli ultimi sette nomi Fred Bright che l'avete voluto mettere voi nella chat Fred Bright come lo vedete allora io dirò guarda piuttosto no è impossibile perché ci sono poche tappe intermedie è quello il punto del tour ci sono tante volate e poi vabbè gli sprint sì però con un altro percorso avrebbe potuto lottarsela ma è così con questo percorso qui ragazzi sarà un velocista vince questa maglia inutile c'è sette otto volate e poi ci sono poche tappe intermedie tante di montagna e le tappe intermedie danno meno punti eh no frigo dai ora qualcuno qui ci sono dei due oddio uno due uno due tre zero due quasi da due stelle per le stelle se il velocista è Bauhaus perché Bauhaus vabbè bisogna vederlo sto Bauhaus va solo nelle tappe piatte un uno vince secondo me dai uno Fred Wright insieme a Bauhaus lì accanto a Bauhaus Cavendish Mark Cavendish ghiaccio se vince una tappa va a casa sì anche secondo me lui punterà solo a vincere la tappa più piatta del tour e risparmiandosi clamorosamente in tutti i momenti della corsa sì e quindi c'è non mi pare la tappa piatta piatta credo sia la quinta la sesta questo è il più ghiaccio dei ghiacci possibili immaginabili sì lo so perché se batte il record di Max lo soffre pesantemente sì 5 gliela regalano come la tappa al giro non è interessato proprio non non è interessato l'ha vinta una volta Cavendish la vede così si l'ha vinta giuro sì due volte l'ha vinta 21 nel 2011 nel 21 nel 2021 quando vince quattro tappe è vero sì due volte e ok frigo frigo dai jacobsen un altro frigorifero che però siccome vincerà forse una o due tappe allora non può andare nel frigo ma secondo me dovrebbe andare dove è Gronewege perché non vedo perché se c'è Gronewege allora perché jacobsen no quanto meno due stelle però guarda guarda cinque quattro tre quattro tre tre lui ha detto praticamente dalle sue dichiarazioni si è capito bene si è capito bene ma quello che si sapeva già cioè che è già un miracolo se arriva in fondo quindi io sì quest'anno mi sembra peggio vince il tre va bene se siete convinti così magari vincendo due tre tappe si piazza lì vince il tre poi Bogachar attenzione ora qui siccome l'hanno voluto mettere ora vediamo solo io non dico nulla vediamo solo il risultato Bogachar mettetelo dove vi pare per qualcuno sono tutti cinque qui è dura però è così no dai ragazzi cioè no no nel senso è dura da capire qualcuno qualcuno fa confusione tra sul fatto che la maglia verde non è e a chi vince più tappe è un discorso molto più complicato perché soprattutto perché le arrivi allo sprint valgono molto di più delle arrivi in salita quindi è difficile vincere la maglia verde per uno scalatore molto difficile perché valgono il doppio però è da spiegare questa regola che è difficilissimo perché il velocista basta che vinca o si piazzi in sette otto traguardi volanti perché un traguardo volante vinto praticamente ora non è proprio così la proporzione ma dà tanti punti quanto una vittoria in una tappa di montagna paradossalmente più o meno non è così è un po' di più la vittoria in una tappa di montagna però ci sono i dati siamo lì perché io ho le tappe quella lì mi è sfuggita per esempio ho segnato le tappe uguale all'anno scorso cioè le salite che danno il bonus di secondi ce l'ho e fra l'altro non so se avete visto ora nel daranno ogni settimana un premio al miglior gregario avete visto? erano tutti francesi ovviamente premiati al miglior gregario ogni settimana 3000 euro di premio quindi premio globale di 9000 euro per 3 settimane facile io so già il nome del vincitore vincerà solo lui per 3 settimane vuoi sapere il nome? vai Mark Soler semplice eh beh se lo merita semplice semplice è già vinto se lo merita quindi è un premio inutile sono sicuro che farà di tutto per meritarselo no comunque Pogacar ragazzi è matematicamente impossibile che un corridore come Pogacar vinca la maglia verde a meno che e questo però è una brutta cosa alla quinta sesta ottava tappa non abbia la gamba questa in classifica e a quel punto lì vorrà dare un po' di spettacolo nelle tappe ma cosa c'è ma non voglio dire così no e quindi magari è vero noi daremo un premio invece ai gregari che non panno i gregari e sappiamo già chi ha vinto Soler bravo vince sempre lui quindi Pogacar alla fine dove lo mettiamo? due? e che ne so tre no almeno tre io non mi esprimo più perché vedo delle robe secondo me oh e qui vince il tre lo mettiamo tra Laporte e Jakobsen così dai allora siamo ai tre nomi più caldi per l'arte non c'è ancora nessuno a quattro cinque sei credo che andranno sì ho capito però c'è allora Wout Van Aert dichiarazioni lui dice che non ci punta però l'anno scorso ha fatto il record di punti è uno che può vincere dovunque potrebbe andare in fuga traguardi volanti però non ci punta ha detto alla Porti in squadra che comunque potrebbe smezzarsi le volate è un dubbio il concorso quando è partito ha detto quest'anno punta la maglia verde e la stravinta quest'anno dice che non è interessato io gli credo quest'anno andrà forte in salita io sto pensando veramente di cederlo sto veramente pensando di cederlo io ormai ho fatto un errore di prendilo se fa il gregario se fa il gregario sarà l'unica cosa fede che c'è il mondiale subito dopo il tour è quello della fregatura lo so però ora preoccupi un posto per nulla non per nulla ma vabbè no il problema è che ti ho detto io mi sono pentito di averlo preso chi ce l'ha lo deve tenere perché il mondiale non puoi darlo via chi non ce l'ha come me sta ancora riflettendo Van Hart quarto allora siamo agli ultimi due Pedersen vincitore della maglia ciclamino eh sì maglia verde la vuelta l'anno scorso questi secondo me vanno al 5 stelle tutte e due puntava la ciclamino puntava la ciclamino al giro poi si è ritirato e quindi e quindi ha poi virato l'obiettivo al tour chiaramente avrebbe comunque fatto giro e tour però al giro puntava sulla ciclamino si vedeva quindi io credo che punterà alla verde 90 ore su 100 Phillipsen ha dichiarato che punta alla maglia verde è giusto 5 per tutte e due dai bisogna decidere chi è che va avanti a chi cioè chi è il favorito e chi quello allora le metto così sondaggio su youtube quindi per i ragazzi che sono su twitch spostatemi un attimo su youtube se volete sondaggio su youtube tra due minuti di sondaggio non di più due minuti di sondaggio siamo comunque più di 600 su youtube allora sondaggio su youtube vediamo un po' si avvia sondaggio allora chi vince la maglia verde Ederson o Philipsen o Jasper Disaster ed è la comuni alla community ragazzi vai il sondaggio è partito vai rispondiamo concordo con Davide Cesaroni io l'avevo detto Girmai a 4 però ha vinto il 3 quindi Girmai se ha questa gamba che ha dimostrato finora non la farà bene infatti uno dei miei dubbi se prenderlo o no perché a me manca un velocista solo che Philipsen mi costa troppo allora qua sta nettamente vincendo sta risalendo leggermente Pedersen ora di poco però siamo veramente in una maniera schiacciante per Jasper Disaster che comunque dalla serie di Netflix si capisce che sono abbastanza amici Van Der Poel e Philipsen hanno un bel rapporto c'è qualcosa di positivo in quella serie c'è ovviamente qualcosa esce e allora ancora un minuto di sondaggio Pedersen vabbè ragazzi dai 70-30 con quanti voti quasi 200 voti arriviamo a 200 voti dai vediamo un attimo credo che ormai i giochi purtroppo per Mazz siano siano fatti attenzione siamo a non vedo più il sondaggio è scomparso ottimo perfetto quanti voti siamo siamo a 201 voti possiamo chiudere il sondaggio direi che dite vai aspettiamo nell'altro c'è da fare ancora tutto praticamente termina sondaggio allora Philipsen con il 70 più o meno se non erro quant'è 68 sì quindi Pedersen ragazzi va in in seconda posizione quindi questa è la tier list conclusiva Maglia Verde primo Philipsen secondo Pedersen terzo Manart poi c'è 4 stelle Vanart 3 stelle Girmay Laporte Pogacar Jakobsen Van Der Poel 2 stelle Gronewegen Ivan Christoph 1 stella Sagan Cocard Bauhaus White Maus One Poppel Ghiaccio Frigo Cavendish Magnus Cornilsen e Wellsford allora questa chiaramente la salvo perché maglia verde perché poi a fine tour si guarda quanti ne abbiamo presi e che figura abbiamo fatto se ci abbiamo preso o meno dai morale della favola quindi maglia verde fatta allora tanto la maglia gialla comunque è già tutta fatta la start list tutte le caricature sono già tutte impostate siamo alla maglia Pua la maglia più difficile in assoluto sempre però allora c'è da dire che al Giro d'Italia con Pinot ci siamo andati vicino perché Pinot si era messo come uno dei favoriti indicativamente ma di cosa Maglia Pua Maglia Blu Maglia Blu al Giro d'Italia Maglia Blu Maglia Pua ho detto ora parlavi di veloce lì sì Maglia Pua è chiaramente difficile da prevedere no quindi allora facciamo così ditemi i nomi da mettere sulla maglia Pua e vediamo di vediamo di di metterli più velocemente possibili io intanto rispondo poca c'è Arbina adesso qualche domanda che vedo rispondo in chat allora Maglia Maglia a Pua 2023 allora chi mettiamo io vi dico i nomi delle squadre e voi mi dite chi vi interessa per quella squadra allora aspetta ho perso il drive alla generici caricature per l'app PNG PNG grazie Marco se vuoi me come gregario guarda sei messo bene guarda sei a posto ragazzi abbiamo un giorno un giro in bici con voi lo vorrei lo farei volentieri e me la voglio come gregario sei a posto se sei a me come gregario sei a posto l'unica volta ha messo la bici è cascato una volta no tante volte diciamo che io sono come Soler no chi è che casca di più in assoluto cioè chi è che se dovessimo di uno che è sempre in terra Pinot no sempre in terra eh quest'anno come sono tanti ora mi vengono in mente tanti nomi chi è quello che veramente casca sempre eh Jay Vine eh Jay Vine quest'anno allora io sono il Jay Vine praticamente sono ero sempre in terra praticamente poi ho detto che forse sopravvivere rispetto a Jay Vine quest'anno Jay Vine sì comunque grazie per la donazione eh Marco e quindi so quanto possa essere utile comunque Marco visto che vuoi pedalare con noi cazzo la lemme sai a regola a giorni dovremmo annunciare la data del raduno a giorni quindi se volete venire se vuoi venire il raduno forse quest'anno sarà una roba un po' più particolare forse non ci stiamo ragionando non lo so ci stiamo mettendo dentro un po' di di cose particolari da fare non sarà con la mia caduta come punto crucial se riusciamo a organizzare tutto forse sarà un binomio tra un evento extra Monteserre e il giorno dopo Monteserre però non è vediamo non è una roba facile siamo ancora troppo piccoli eh per fare una roba grossa comunque vediamo perché quello che volevamo fare chiaramente ci serve ci serve la Rai dietro per far tutte le riprese sul Cera e quindi è infattibile farlo sul Cera eh allora eh a Gerozerre chi mettiamo della Gerozerre io metterei Felix Gall assolutamente sì e sono due poi sono due della Bingog sono due della Bingog e anche il commento mi sono sfasciato invece continuamente e poi capite che era meglio sopravvivere sono sfasciato diverse volte ma è anche pesante allora dicevamo dicevamo anche perché cercavo comunque diciamo situazioni all'inizio quello da rimettere allora della Gerozerre mettiamo ragazzi star triste alla mano star triste alla mano allora acidosia Alberto è morto sta mangiando le carcasse delle ancora ha mangiato lui non lo so a questo punto sta suonando ancora anche lui gente dispersa poi sono io quello del Piazzano è lì sul palco che suona capite tra l'altro arrivano foto che hanno beccato la facciamo vedere la foto che hanno beccato Piazzano al concerto dei Kiss in un atteggiamento anche un po' annoiato direi addirittura come questa non era Caronti ci ha detto che era colcherizzato al concerto pensavo che avesse delle fonti questa è la foto che ci hanno mandato hanno beccato Piazzano al concerto dei Kiss che concerto è questo è in Piazza Lucca in Piazza Lucca sta pensando al nome da fare come vincitore del tour sta guardando qualcuno i Kiss sono dall'altra parte è lei è qui la bionda di spalla di tanto non le vede quindi sta guardando un'altra praticamente ci stanno spoilerando Piazzano al concerto dei Kiss allora Felix Gall poi mettiamo O'Connor lo mettiamo per la Poix si ok O'Connor poi della Gerozer basta non credo ci sia nessun altro interessante per la maglia Poix poi Alpesin qualcuno direi direi di no Alpesin non vedo non vedo nessuno se non è Giacomo che dal Belgio fondo moulin aspetta fondo moulin in Belgio sono indietro indietro due ore perché due ore in che senso siamo 1.45 15 minuti prima qui sta aspettando l'inizio comunque Giacomo cioè se mi inviti volentieri cioè ti vengo a trovare volentieri perché in Belgio mi piace ci sono già stato ma ci tornerei quindi se mi inviti volentieri guarda andiamo a fare un tour delle non lo so del fiandre no dei muri del fiandre o delle birrerie del fiandre stavo specificando ci fermiamo a bere una birra su ogni muro del fiandre capito era vero attenzione mi inviti attenzione e tornare direi dov'eri scusi ferma un attimo no ferma un attimo dove eri di Leo che abbiamo parlato l'altra settimana campionati urbanesi con scandalo e invitato il il denunciatore anche se non esiste come parola l'accusatore l'accusatore poi Uzbekistan non ti abbiamo mai sentito su questo ciclismo maggiore non minore non ti abbiamo mai sentito io ero preoccupato eh monasteri trappisti risordisce così di Leo di Leo vogliamo sapere la tua su questo su questi campionati falsati in Uzbekistan e in Albania nazionali campionati nazionali eh Giacomo cioè no magari mettiamoci d'accordo invitami l'anno prossimo vuoi vedere che era lui che organizzava si fa mi faccio un tre quattro giorni in Belgio si fa questo giro va bene scrivi primaverina eh primaverina stavolta invece che organizza la primavera dove sera non mi guardo neanche più a Follonica si va in Belgio direi che ci posso stare va bene mettiamoci d'accordo organizza invitami ok vedi 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 che l'ho detto dell'Albania non hai detto nulla eh però dell'altra volta si è chiamato Sefa non hai detto nulla non abbiamo sentito nulla sei mancato ci sei mancato allora siamo ragazzi andiamo per ordine sono ovviamente alle tre di notte siamo sempre qui e allora l'Alpesin nessuno si è detto Astana qualcuno interessato per la maglia PUA secondo voi beh teada da quello che ci han detto teada non c'è la caricatura quindi devo mettere l'Alpesin di lei l'abbiamo già parlato chiaramente si quindi mettiamo siete d'accordo con teada per la maglia PUA si qualcuno mi ha messo qualcuno mi ha messo ah teada teada vabbè dai teada poi siamo alla Moscon no Moscon Moulin lo metti ma sto bene cioè no questa volta ho fatto l'errore però ah ce ne hai troppi vale 15 farò un altro cambio altri due cambi vado nel vado ormai in una spirale di fallimento totale definitivo della Cruz può starci anche no direi della Cruz non va più della Cruz non va più ragazzi cioè poi ci mette della Cruz si mette dai vabbè dai della Cruz mettiamolo della Cruz eccolo qui poi allora teada ricordamelo dopo Lore della Bahrain Victorious chi mettiamo Jack Leonard Jack Leonard per la maglia può ci sta ci potrebbe stare Jack Leonard e e basta perché poi io ho un nome ecco un nome fantasia Moritz non lo so perché secondo me Bilbao e Landa proveranno a fare classifica penso sia abbastanza scontato io dico Alla Egg potrebbe starci che avrà un po' più carta bianca non credo che venendo dal giro insomma Moulin adesso non c'è volevo chiedere di Jack Leonard Higgs come lo vedeva per la maglia qua Moritz anche io Fede Sabino è d'accordo Moritz secondo me giocherà un tour totalmente all'attacco e se putacaso si ritrova all'inclassifica non lo so la butto lì Moritz secondo me farà un buon tour de France chiaramente ce l'avranno in pochissimi in montagna però non va no non va però bisogna bisogna vedere in quali fughe entra e chi ci saranno queste fughe tutto lì però sì in montagna non è il più scarso è in montagna bisogna vedere chi saranno i contendenti di questa maglia ovviamente Moritz Jack Leonard si è detto ok poi tanto l'Anda ragazzi non è buono a sprintare su un sprint quindi inutile non è interessato poi Jaco Alula Simon Yates per la maglia com Simon Yates bisogna metterlo comunque secondo me ok Simon Yates qualcosa farà non corre da mesi solo per il tour mi dice che sono offline mi vedete sì poi Bora io metterei Gita che non c'è che non c'è Conrad non lo so l'unico l'unico che mi stimola è Conrad per la maglia poi non lo so Harper ragazzi se vuoi mettere Indley di rimbalzo perché fa classifica ma no ma Indley Politt no ragazzi Politt Montagna Buchmann dicono Buchmann da mettere campione di Germania Buchmann mi ha rifiuso me ne vado eh ma sta tornando campione tedesco sta tornando certo dopo una caduta definata ha finito la carriera se metti Buchmann devi mettere anche Indley scusa però no perché Indley no 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 e metto metto guarda metto Conrad siamo gli essi ce l'hai messo tante volte poi metto Conrad e Buchmann ok poi siamo alla Cofidis vabbè Guillermo Artin ovviamente Ioni Zagir se c'è Conrad ci deve stare anche Ioni Zagir io ne mettiamo le troppe però perché ragazzi però Ioni Zagir poi chi mettiamo EF DSM Bardet ma è Carapazza avete già messo no 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 Bardet lo metto sì anche lui potrebbe ripiegare ripiegare sì Carapazza per la EF poi Poles non lo metto metto anche Poles metto anche Poles va bene sono già troppo sa già che fallirà capito il Bulleye quindi poi 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 Grupama Godú Pinot e Godú tutti e due io so perché il Bulleye mette Godú l'ha detto anche appunto per i bike Godú si mette perché a parte che Godú è come Landa nella stessa situazione di Landa se si ritira è in bilico fra fare podio o ritirarsi subito all'istante cioè non se sono lì loro due fanno su quel filo sapete che è fra il ritiro e il podio Ineos chi mettiamo? ecco è il mio più grande punto di domanda io dico due nomi Bernal Pitcock per la maglia Poire io solo Pitcock perché Bernal proverà a fare classifica però se esce di classifica non punta la maglia Poire sono d'accordo sono d'accordo Dani Martinez Martinez non va in salito ma fa vincere la maglia Poire Pitcock ci sta Pitcock dai mettiamo Pitcock ok Carlos Rodriguez no farà classifica ci proverà quindi Mentes no perché tanto Mentes tanto è ultimo anche del gruppetto in fuga figuriamoci come fai a prendere punti Israel chi c'ha? Vuzi ah Vuzi è vero e Jumbo nessuno beh Van Aert lancio la provocazione scusa Vinghiker e Pogaccia li devi mettere sì 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 a parte Vinghiker e Pogaccia provocazione del Mullah con Van Aert attenzione è una provocazione sì 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 poi metto Vinghiker la Movistar Guerreiro cioè Guerreiro Guerreiro nella Movistar che cazzo è che non la trovo Movistar 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 c'è Guerreiro Guerreiro è un nome interessante sì a proposito di Gregari che non fanno i Gregari anche Jorgensen potremmo mettere però non lo so non sta bene Jorgensen quindi boh cioè non è in grande forma Quickstep alla Philippe proviamo a metterlo e poi Total Direct la Tour mi rifiuto ragazzi perché intanto lasciamo perde Ciccone della Trek Grande Giulio portaci sta maglia e e e e e e e e Pogacar che Pogacar tra l'altro cioè dovrebbe essere già con la caricatura se non sbaglio della maglia eccola qui ok ok allora maglia bua sono 732 nomi perfetto andiamo veloci andiamo veloci andiamo veloci andiamo assolutamente veloci e allora qualcuno dice anche Adam Yates non ci credo qualcuno della 1X e e e e e e e proverà a far classifica secondo me sinceramente ok ma che classifica si a e davvero allora allora si dai ragazzi sono già veramente 10 milioni e portette submit ok fatto ragazzi ci siamo maglia pua questa è la maglia più difficile in assoluto Soler non ce l'avete messo lo vuoi mette? si che pensi faccia il gregaria? come dobbia allora Soler vuoi? però con poca caccia in squadra non può fare tanto il bulletto no fa cosa gli pare lui non lo so allora Mark Soler ok mettiamo anche lo vedo già Bilbao verso la maglia gialla Mark Soler dici attenzione che c'è che è successo? che è successo? lo vedi? 21 euro grazie per la calcatura ha già coperto il tour è già posto per i prossimi 21 giorni è arrivata è arrivata l'abbiamo fatta vedere ma tanto te l'ho mandata anche a te poi ti mando su whatsapp ti mando il file il png così poi la puoi utilizzare insomma dove ti pare hanno detto che ti è costato 1234 euro un rene una casa ma è arrivata alla fine quindi grande Mark io penso che sia il sostenitore numero uno senza se senza ma senza dubbio senza noie top 5 stelle 6 stelle 6 stelle ors category baccani ors category allora aggiungo Teada Teada e Soler e poi basta madonna quanti si infatti andiamo veloci vai allora 5 stelle 4 stelle questi sono tutti stiti davvero una follea una stella e qui mettiamo a Drew metto frigo scrivo frigo maiuscolo allora veloce Felix Felix Gall quante possibilità ha Felix Gall di vincere la maglia può secondo me tante perché anche lui quindi considerate già che sarà un Gregorio che non farà il Gregorio però Connor esatto se non cade perché dite così hai capito si se non cade ci punta anche secondo me e anche secondo me cosa dice la chat fra 3 e 4 però ci sono anche dei 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 vai facciamo veloce 3 Felix Gall 3 stelle Ben o Connor allora punterà la classifica diciamo che in teoria in teoria non non dovrebbe puntare alla PUA la PUA potrebbe essere un ripiego però sinceramente allora perché è quel tipo di corridore che potrebbe uscire di classifica e rientrare con la fuga a bidone l'ha già fatto un anno che è l'unico anno dove ha fatto quarto tra le altre cose però O'Conno io non lo vedo a maglia PUA sinceramente Scalatori Proletari Scalatori Proletari 1-2 stelle Scalatori Proletari mi sembra ottimo Chi è lo scalatore Proletario? No no c'è il nome della squadra Una stella per O'Conno David della Cruz che avete voluto voi mettere della Cruz per me è un corridore abbastanza andante verso via del tramonto però magari qualcosa voglio contare i frighi della Cruz 1-2 io faccio solo così 4 a caldo a caldo no no potrebbe battere il record 4-5 6-7 8-9 dai dai mettilo subito lì mettilo subito in ghiaccio vai record come lo spumante vai in ghiaccio Jack Leonard diretto andiamo avanti Jack Leonard ragazzi mettilo subito il congelatore il congelatore va riempito come lo vedete Jack Leonard ragazzi siamo a 19 follower dai 7000 follower su youtube come? siamo a 6981 follower siamo a 19 follower dai 7000 Leonard Leonard in ghiacciaia vai buttalo lì anche lui vai quindi Leonard 2 figurifero Leonard non era proprio così secondo me dai lui fa regali davvero se no davvero ma in realtà c'erano 2 se no davvero addirittura 3 capitani no ma vedo che c'è 1-2-1 magari lui va in fuga capito non importa una serie va in fuga dai 1 perché c'è qualcuno qualcuno lasciate lasciate allora questo è un nome mio l'ho inserito io Moric no ma dai basta quando Moric sarà a Parigi con la maglia poi frigo perché semplicemente non va in salita cioè lui poi vediamo poi vediamo chi ha ragione ha preso 10 minuti da poca ha preso 10 minuti da magic fra un po' 3 minuti da magic andiamo avanti dai 0 avete voluto metta 0 va bene Simon Leonard Yates come vedete Simon Leonard Yates Philip io quel ragazzo lì sapete che per me non esiste il mulaccio ha messo quindi io dopo fresco e fresco perché ha corso pochissimo per me non esiste dopo tante delusioni coscienti io hai dato una lista nera perenne perenne a prescindere 3 addirittura per me si perché uscirà di classifica sì ma lui vince due tappe capito piuttosto tra le tappe e magari se si trova lì perché no che dicono lista Philip Dache dice dire black list infatti però 3 2 4 3 2 2 almeno 2 siamo in una via di magic che bisogna dargli 2 dai 2 allora tanti frisi però qualcuno bookman è rimasto è rimasto in terra del finato nel 2000 20 o 20 ormai ti sei risato sì perché lui fino a quella caduta del finato era forte sì ma arrivò qua arrivò quarto Artur de France da un giorno all'altro è diventato ridico questo è quanto prima era forte si è un espload ha fatto un paio d'anni in cui stava crescendo ha fatto una caduta ha definito un tour di merda dove ha preso la cotta quella famosa cotta da cui non ti riprendi e non è è diventato un covedore inutile frigo frigo dai frigo ha vinto vince il frigo allora sì dai vada lì ok frigo per Buchman Conrad questa è io io non ce la faccio stasera cioè questa è nomi Conrad nomi esotici bisogna perdere il tempo con Conrad dopo due ore e sei bisogna parlare e che Conrad si giocherà ma Conrad non va in sale di testa fermo uno vai uno vedi stai a vedere ma poi chi glielo fa regare a Indri nessuno ma Indri non c'ha bisogno di regare frigo frigo andiamo avanti frigo vai buttalo dai Conrad è da pozzini sei capito vai hai capito ok frigo Conrad poi Jon Izagirre ricordiamoci che questi qui partano in casa i baschi sono col coltello c'è tenente questo è il nome colpa mia per questo nome che l'ho messo io questo Jon Izagirre io comunque un paio di una stelletta gli ha da lei così eh quarta tappa di Enes perché fanno i paesi baschi e poi va a casa eh probabilmente due 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 quindi una stella dai perché ci sono frigo e due quindi uno dai vai una stella aspetta sì sì non perdere tempo ma come quattro Guillaume Martin anche se lui sapete che ha la malattia ha la malattia no quindi essendo affetto dalla malattia essendo affetto ormai ufficialmente dalla malattia della classifica potrebbe tralasciare un argomento e tentare fuga e bidone su fuga e bidone però se non gli riescono neanche quelle potrebbe ripiegare esatto su sulla maia poi essendo anche francese c'è qualcosa in più da storicamente vabbè un paio di stelline gli vanno date sì ma eh Martin direi è puzza sempre però cioè puzza sempre nel senso che è imprevedibile ma chat divisa è molto divisa ci sono dei 4 2 3 2 1 frigo c'è di tutto siamo alla frutta quindi eh c'è incertezza c'è di tutto sì ma guess che ragazzi guess che non va dai guess che non va profiterò non si sa oh quindi do cazzo e che ne so io sto cercando di capire qualcosa da questa chat ma c'è incertezza che stanno fa classifiche e basta Gabriele Varlini che ha parlato è un grande esperto di Guillain Martin e quindi io però non ci hai detto quante stelle cioè ci hai detto quindi non ci punta ma io sono d'accordo con lui che arrivi il quinto no però che ne so facendo una media secondo me siamo a 2 perché c'è un 3 tra 2 e 3 3 dai decido io Guillain Martin 3 accanto a Felix Gall Romain Bardet attenzione 2 rientrato dal concerto è arrivato Marcello attenzione in tempo per il nome in tempo per il nome io parlo soltanto col mullà ti sei bloccato tra l'altro con la voce robotica con la voce robotica sì non ti percepiamo connessione così 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 ah Juana rock and roll all night si sente a party every day si poco poco va bene va bene uguale Marcello come state io voglio la maglia della track regalate per favore è un buono sconto anche insieme alla maglia della Lidl della Lidl sì ma poi voglio regalare al mullà quella con quella dell'ep con l'apero che secondo me è bellissima il mullà si fa tutta l'estate in giro con la maglia col papero con il casco di Roglic quando ha perso il tour e poi mette la pantaloncina con il marroncino guarda veramente pronto per andare pronto per andare non so dove un'idea ce l'ho però non lo dico per essere politica come un posto in Toscana Marcello prima che la connessione si perda chi vince il turno mullà fai la domanda sì 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 subito così sì anche perché ho chiamato di Leo per sistemare la connessione io non sento niente però vabbè facciamo chiudere Luca ti chiede come sono andati i festeggiamenti per la Champions allora torno tra un minuto no no attenzione colberta tutti 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 tornato dalla caccia dalla caccia caccia medievale eh digerito tutto sì per ora tutto a posto quante carcasse mangiate oh Bertha ma ho un po' di panna ora adesso devo smaltire come del ser attenzione perché ne so qualcosa io attenzione alla coca cola cosa ne sai perché la coca cola cosa è successa conseguenze irrimediabili no 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 mi controllerò a differenza ormai ci sono di qua Bertha mi mancavi ci voleva un po' di polemica eh ci siamo ci siamo ci siamo siamo pronti carichi dove siamo dove siamo arrivati io non lo so siamo in alto mare in alto mare siamo 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 a partenze sulla maglia a poa e Marcello che ci deve ancora dare il nome del non vincitore del non vincitore vabbè eh allora a partenze scusami un attimo però la maglia gialla l'abbiamo fatta ehi ma sei pazzi no infatti dobbiamo andare dobbiamo andare dobbiamo andare in quale universo secondo te è possibile immaginare la maglia gialla avviene prima della maglia a poa vedendo l'orario ci avevo sperato eh abbiamo lasciato la maglia a poa in fondo perché sai i nomi caldi di Conrad e Morin andiamo 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 Bardet Bardet ragazzi Bardet 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 è tre stelle più o meno era uscito facile dobbiamo interrompere di nuovo perché ci sono delle priorità Marcello allora adesso mi senti oh sì faccio una prova Fede sì sei lo stronzo si sente? è tutto a po' forte e chiaro che bello ma bisogna usare certe parole per fare il sound check come si chiama allora Marcello quando ti vuoi andare diccelo che facciamo una domanda adesso no se la sente vuol dire che se la sente allora Marcello ma io voglio lo schermo totale ecco qua siamo un appuntamento diciamo leggermente importante io non ti chiedo chi vincerà questo Tour de France 2023 ma ti chiedo chi non vince il Tour chi non lo vince nulla assolutamente non lo vincerà nulla scusa secondo te uno che si è sfasciato non si è allenato per un mese oltre si è fatto una bella vita a Monte Carlo ha vinto il campionato della Slovenia altro nessuno cioè può vincere un Tour de France secondo te non lo so ma non lo vince Pogacar ma non può vincere dai attenzione attenzione Vindelard è già lì che si tocca i testicoli ciao una squadra inferiore rispetto alla Jumbo ma dai ma stiamo scherzando non può vincere ma no ma non lo vince Pogacar ma dai ma stiamo scherzando dai la sentenza è quasi riuscito con tono comunque allora anche se non lo vincerà sarà lì sarà lì fino all'ultimo io faccio fatica a pensare chi può essere terzo cioè ti dico oggi ero lì in macchina in coda ero lì in macchina in coda a Bologna e stavo ascoltando Radio Nettuno 1 Bologna una delle radi più famose d'Italia Berta magari la conosce parla soltanto di Virtus di Fortitudo e di Bologna Calcio e a un certo punto si sono messi avevano Cassani come ospiti si sono messi lì a parlare del Tour de France per il prossimo anno che insomma c'è una grande parte in Italia poi io non so come mai mi sono distratto un attimo e ho detto ma chi cazzo arriva terzo al Tour de France ma chi arriva terzo al Tour de France io lo so eh tu lo sai cioè chi è che sicuramente Marcello non può arrivare terzo ma ne so andiamo oltre chiediamogli di più perché il Tour de France a me piace interrompere la vostra io lo so chi arriva terzo però cioè ma io dopo aver visto l'obrobrio della serie di Netflix una puntata intera su Google no no non ci metto anche te anche te Google stasera c'è Siri che mi parte non lo so dico Netflix e Siri ha dei problemi non lo so Siri non rompere il cazzo ok via ecco sei andato via cioè ma chi può arrivare terzo vabbè Kung ma chi può arrivare terzo no no Kung basta ti prego no ma chi può chi può arrivare terzo io lo so chi è arrivare terzo ma te ci devi dire chi non arriverà terzo quello è il punto ma non ho più palle d'idea non lo so non della come si chiama della Ineos chi c'è Bernal è il capitano chi è il capitano Bernal nessuno 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 assolutamente nessuno cioè io non so chi possa esserci Marcello quante probabilità ha Bardet di vincere ma qua continua a entrarmi su Siri di merda oh basta si Steve Jobs ciao senti no no tutto a posto e vabbè ascolta Marcello quante possibilità a Bardet quante possibilità a Bardet di vincere la maglia qua cosa quante possibilità a Bardet di vincere la maglia qua più di Ciccone più di Ciccone sì facciamolo scegliere a Marcello per Bardet no più di Ciccone l'idea era di metterlo in testa no 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 da una a cinque stelle quante stelle gli dai a Bardet di vincere la maglia qua quattro quattro vabbè allora Bardet l'ha deciso Marcello lo mettiamo lo mettiamo a quattro stelle cioè chi può vincere la maglia qua sicuramente uno per una squadra francese infatti la DSM non è una squadra francese appunto e Bardet quattro stelle non cinque secondo me il podio sarà io faccio per tutte gufate però il podio per me sarà bingard primo Fogaccia secondo e terzo Indre ma per il tour de France vabbè ora dopo solo gufate calma verso le due dai andiamo veloci Carapaz Maglia Puà Carapaz ragazzi in chat quante possibilità Carapaz inizia Maglia Puà perché per noi sarà fatica a stare in classifica però magari ci sbagliamo com'è la maglia delle F a questo tour Bardet l'ha deciso Marcello sì Bardet l'ha deciso Marcello a quattro stelle Maglia delle F dovrebbe essere non si sa io l'ho visto probabilmente non Carapaz anche lui tre sui qua quattro dai ha vinto quattro quattro se no non ci si fa davvero allora quattro stelle Carapaz Nelson Poles 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 ragazzi per me Poles andrà secondo me andrà sempre in fuga sempre e sarà il più fugaiolo del tour dei fugaioli dici allo Svizzera non è andato per il cacchio per me andrà sempre in fuga poi vince non va non va frigo uno due uno due vince l'uno su Poles Jack Leonard come mai solo uno vince l'uno dai non ci chiedete su Poles Godù come ripiego Godù ricordiamo come ripiego capitano per la Maia può forse è Pinot forse però Godù no Pinot fa il Ghegario se Godù va ma Godù non va però tutto Godù fa classifica Godù arriverà terzo no secondo me Godù non va sarebbe da silurarlo Godù dalla squadra altro che dalla mia squadra parole forti eh io queste me le segno no sarebbe da ma è un ciocambi che cioè ragazzi me lo devo portare ma sarà un tour per me disastroso da parte di Godù poi magari Godù oscilla fra frigo e due quindi a uno anche lui per me Godù farà fatica a fare quello che ho fatto l'anno scorso no non lo farà mai Woods quattro stelle no Woods per me è frigo ma come frigo no non è in grado è Michael Woods è lui ma è Michael Woods 3 stelle 4 cal e Guillaume Martini tra me due io io Woods non lo posso fatire mi ha fatto perdere il podio ai danni di Albertino Pistolero mi pare qui i rancori personali non sono no qui c'è 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 la fede è passata è passata 2 2 2 vince 2 2 io vedo dei 4 e dei 3 no c'è una spizza di 2 ma la gente ubriaca 4 vabbè 3 dai mettiamo 3 Woods dai 3 in mezzo tra Gall e Guillaume Martini poi 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 Teada chi è? Teada qui esprimiti te Marcello ma andate a fare questo l'ho fatto io il nome c'è ma scusate a parte il fatto che la maglia della Stana è una roba indecente anche la maglia della Stana cioè io non so quest'anno il Tour de France chi ha disegnato le maglie ma Teada però Velasco Velasco ci ha detto che ha ritrovato se stesso Teada ha detto Velasco Marcello è venuto prima di dire che ha ritrovato l'equilibrio psicofisico si è reddiviso non lo vede è come se chiedete la Gio di Svizzera è allo Svizzera correvano insieme ragazzi scusate è come se chiedete ad Affini come sta Vingegaard ma erano allo Svizzera insieme con Teada ha detto che è rilassatissimo ha detto zero stress ma anche io sono il classico sudamericano e questo non era una buona cosa però vede io sono a 10 km da te ma non so minimamente come stai ho capito ma Velasco e Teada erano stanza vicino credo non a 10 km comunque Teada frigo 1, 5, 4 cioè vabbè quelli che mettono 5 voglio dire ci prendono per il culo il primo del frigo è subito lì appena apri la porta come il frigo no 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 qui ci sono 4,5 che io considero e quindi 1 allora Teada davanti a Godù davanti a Godù clamorosamente Guerreiro Ruben Guerreiro secondo me si va a 3 stelle Guerreiro no no Guerreiro deve fare il capitano e il Gregario Mass ma c'è Jorgensen perché a Gregario Guerreiro no Jorgensen non sono loro ora mai perché Guerreiro è il fratello di Solerre Guerreiro al massimo gli mette le mani addosso al massimo si è di Guerreiro anche per me 2 ci sta 2 Guerreiro gli mette le mani nel viso al massimo stavolta si si ti si lo piglia schiaffi Guerreiro guarda che c'è anche 3 e 4 4 diciamo va nel 2 va nel 2 media del 2 Aaron media del 2 noi si credono perché scientificamente l'ha calcolata media del 2 allora noi crediamo a Aaron e lo mettiamo davanti a Samuels qui c'è la provocazione del Moulin vote Van Aert per la maglia l'ho buttata lì così a caso dai Moulin no è una provocazione Moulin stai bene no quello no però è una provocazione ma non è che la provocazione vuol dire che voglio sentire cosa dicono gli altri ma non ti possono festegnare c'è gente educata e beh possono anche festegnare si ritira avanti 2 voglio sentire cosa dicono cosa dite anche loro ricordiamoci che l'anno scorso se non sbaglio arrivò al secondo o terzo nella classifica maglia può a Barat può essere vado a memoria perché Moulin vado a vedere immediatamente perché l'ha detta un po' sì secondo me l'ha persa all'ultima tappa da Ving no non era sua però se se avesse vinto la tappa vinceva la maglia fuori sì sì era quella cosa lì comunque vinto l'ultima tappa ma ho capito la provocazione è arrivato quinto è vero è vero sì perché erano tutti vicini c'è arrivato quinto ma a 6 punti da 10 che era secondo quindi bastava che bastava che vincesse l'ultimo bastava che vincesse l'ultima tappa in salita e Vingega non vincesse e Van Aert c'era la maglia può questo mi ricordo ne riparleremo secondo me va a due stelle no a frigo va perché ha vinto frigo no 4 1 e voi non leggete i commenti che offendono sì sì va Van Aert va a frigo dai ragazzi comunque Van Aert se avesse per me io non lo escludo totalmente se avesse vinto utacamba avrebbe vinto la maglia pua e oltre la vedra l'anno scorso io vi dico solo questo un campo a frigo non va nel frigo non ci va qui ci sono dei voti 2 3 2 2 2 3 vedi dopo che gli ho dato l'in là i ragazzi mi sostengono dai si mette tra Guerreiro e Simon 8 va bene Vigarba tra Guerreiro e Simon 8 a pigliarli schiaffi dal Guerreiro attenzione ora siamo al Gregario d'eccellenza il Gregario numero 1 ecco perché non vincerà il tour poca Soler Marc Soler questa è un'altra provocazione per me è frigo però il mullà l'ha voluto mettere un altro test Fede ma il mullà sta bene faccio dei test faccio dei test Marcello voglio sentire cosa ne pensate cosa ne pensano cosa ne pensano tu sei inventato un professore matto o sei meglio quello indecente dicono oddio la lancio lì mettetelo la sterilista serve per questo perché uno poi dà il suo giudizio in frattempo c'è probabilmente Dicklenbergot 8-5-7 ha visto ora l'entrata di Piazzano che commenta sul di poco c'è che non vince il giro 300 euro sono falsi mette 300 euro falsi Frigo Soler dai Frigo Soler mettiamo Soler vincerà una tappa ne riparleremo ne riparleremo allora ci vediamo durante il tour va bene ciao Marcello a volte orario aperitivo a volte dopo scena dipende un po' da come ci fanno intanto vi vedo non è un problema vai ciao come ci vedi devi venire settimana prossima la dà anche in vacanza vada in Ibiza scusaci qualche ospitata ce la puoi concedere 5 minuti sul mare qualche donna dai 10 minuti Marcello 10 minuti a scappatena va bene ciao ciao Marcello ciao Marcello ciao sì allora Tibo Pinò e qui si inizia ad andare sui nomi interessanti gli ultimi nomi sono molto interessanti Alberto Guerra ciao ragazzi sono arrivato adesso domandone secco Bardet o Scalmose Bardet allora io ti dico Bardet che comunque tutti l'anni qualcosa raccatta ha più esperienza e qualora sì e qualora dovesse uscire da una top 5 top 10 comunque punterà una tappa o dei traguardi intermedi come Maglia Pua come si è detto prima Bardelli a 4 stelle perché l'ha messo Marcello secondo la community era un po' più sotto per la Maglia Pua Scalmose lato positivo è che sembra avere una grande gamba effettivamente però lui non ha mai dimostrato di andare più forte dei 5-6 giorni 7 giorni di gara quindi al primo tour sarebbe è vero anche che l'anno scorso alla prima volta Rodriguez e Aiuso hanno fatto terzo e quarto quindi comunque dico anch'io Bardet 60-40 Bardet Schalmose non mi sembra l'uomo da 3 settimane Schalmose nemmeno a me però vediamo avremo la riprova è giovane comunque Pinot 4 sì ho visto la media quella lì ma questo Matti che è 4 Pinot la media è quella 4 mettiamo qui nel mezzo Pitcock questa è stata la provocazione mia di Lorenzo per me Pitcock Pitcock frigo non lo so non lo so non lo so non lo so Pitcock ragazzi anzi proverà a fare classifica ha provato l'anno scorso è giustamente ha donato 5 euro Mulla è silenziato è silenziato Bardet Schalmose comunque appena rientra io chiediamo Alberto rimani connesso che 1 1 1 2 la donazione giustamente la risposta gli va data eh ma se mai rientrerà il Mulla sì rientra frighissimo 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 Pitcock frigo ragazzi occhio perché questa la pagate questa mancanza di vabbè 1 dai qualche 1 c'è però 4 1 dai 2 dai 1 frigo no Pitcock 1 davanti all'idolo teatro avete fatto un errore Pitcock è da 4 stelle anche secondo me anche secondo me però la Chattel ha vinto 1 Pitcock non gliene può fregare di meno della maglia può pareti discordanti Bertha Mulla Mulla ascolta un po' ha chiesto Alberto pagando ci sei sì ci sei ha chiesto vuole anche no no su Schelmose non quindi ho mandato solo una foto io cosa ho mandato solo una foto prima che basta ah ok poi la facciamo vedere dopo su Schelmose io non parlo non parla su Schelmose Bertha si parla ancora di Danesi e di cronometro Danesi e cronometro la scuola danese eccetera eccetera comunque comunque quindi Alberto ti dice Bardel Mulla chiaramente perché Schelmose no 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 dico Schelmose ah dici Schelmose sì perché la scuola danese non sbaglia mai la scuola danese non fallisce Schelmose a tutti gli effetti quindi a te la scelta e il Bertha t'abbiamo consigliato Bardel e invece Mulla dice Schelmose scuola danese non sbaglia allora siamo alla Filippe 2 a 2 quindi quindi a te la scelta se credi a me Alberto vai su Bardel se no se Lorenzo è Mulla Schelmose alla Filippe ricordiamo che ci ha puntato un anno alla Maya e l'ha vinta qualche anno fa no no alla Filippe no uno Frigo però andrà spesso in fuga anche se non ci va che cavolo va a fare in fuga per vincere le tappe sì dai le tappe da vincere per lui se non ci chiede tra bene Godù non ci chiede per niente ma mi hanno chiesto Bernardo e Godù ah ti dico Godù anche solo per la minima speranza quindi ancora non so chi mette vabbè se doni altri 47 euro forse sto scherzando Alberto devi fare sì la scelta perché se scegli a chi credere dico schermoso poi scegli a chi credere scegli a chi credere se vai sulla storia al tour guardè se vai sull'imprevedibilità e così l'estro schermoso cosa devo dirti è così è vero è vero è come quando uno paga no per si fa un massaggio ti puoi stare peggio di prima paga comunque Giuliano un paio di stelline gliele darei sì Giuliano spero abbia capito che non deve andare in fuga nelle tappe c'era un'arta due stelle ragazzi Giuliano è bollito Giuliano comunque ha vinto il frigo uno ho fritto bollito per la storia l'ha già vinta io lo metterei dietro dietro il fenomeno teatro davanti a Giuliano vince due tappe allora siamo al corridore di casa nostra l'unico che probabilmente in questo giro di get to the france da italiano potrà darci delle soddisfazioni a prescindere quale esse siano Ciccone per la maglia può vabbè abbiamo già capito dove lo mettiamo vogliamo il plebiscito no cinque sono troppo no ce lo mettiamo qualcuno ci vuole cinque stelle eh gli altri due no Ciccone io ci spero ragazzi ci spero più che altro allora quest'anno secondo me diamogli fiducia quest'anno secondo me è l'anno più bello di Ciccone da quando è professionista e senza ombra di dubbio diamogli fiducia ragazzi ha vinto una tappa alla valenziana e ha perso all'ultima tappa alla generale se no l'aveva vinta con quella mezza fuga del cazzo se no aveva vinto la valenziana Tirena Adriatico quinto in generale ha praticamente 30 secondi da Roglic e e ha fatto secondo nella tappa diamogli fiducia dai poi aspetta aspetta a volta a Catalunia ha vinto la tappa contro Roglic e Venepul comunque è arrivato settimo in generale andando un po' incanando nel finale comunque quinto nella tappa finale di Barcellona Frecciavallone quinto Liegi Bastogliegi tredicesimo dove comunque era in fuga con Schelmosi a un certo punto e non hanno trovato l'accordo tra i due compagni quindi se mi ha capito Criterion del Delfinato ha vinto l'ultima tappa la più difficile undicesimo in generale e Maglia Puà quindi al Delfinato al campionato italiano è andato male quindicesimo era un campionato italiano abbastanza duro è andato male come tanti altri però ci sta che era un po' sovraccarico per una preparazione che ha fatto poi in vista del tour quindi è l'anno migliore di Ciccone quindi per me per me gli conviene gli conviene cercare delle vittorie ha vinto il 4 non il 5 ha vinto il 4 ragazzi la lavagna domani sera domani sera domani sera domani sera su Instagram ha vinto il 4 quindi allora ragazzi tanto Pogacera e Wingergad non avete dubbio vanno a 5 stelle giusto? sì anche il cane è d'accordo anche il cane suo è d'accordo perfetto quindi allora mettiamo Wingergad e Pogacera quindi facciamo così facciamo così facciamo giusto per dare un po' di brio al sondaggio mettiamo anche Ciccone nel sondaggio ok quindi spostiamoci su YouTube Ciccone punti sicuri? per me sì sono messi io non ci voglio perché mi hai chiesto Ciccone o Mass Ciccone se vuoi quei punti meno magari ma Mass per fare la solita sconese con 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 fughe e tappe sì sì ma secondo me li fa secondo me non tantissimi ma li fa non tantissimi ma li fa proprio se farà quella tattica lì di andare all'attacco attenzione che il tour non è il giro eh no no però se sarà un tour combattuto anche i fugaioli faranno fatica arrivare in fondo alle alle tappe certo Pinot 4 stelle è vero è imbarazzante dai o no perché Pinot ciocco perché Pinot non cioè non farà questo allora sondaggio fatto sondaggio allora sondaggio fatto Pogacar Wingard o Ciccone ragazzi sondaggio su youtube sfondate il tasto e poi passiamo velocemente alla maglia alla maglia gialla ma la maglia verde l'abbiamo fatta sì sì Philip Philip se ne ha mani basse come Philip se ne ha mani basse si non è no non è nemmeno considerato nella lotta finale attenzione c'è un duello fra Ciccone e Pogacar attenzione Ciccone che scatta rientra Pogacar se ne va se ne va se ne va Pogacar o no no è dura è dura Ciccone è al gancio io aspetta voto che non ho ancora votato Wingard è staccato Ciccone è al gancio Ciccone non può fare classifica no la può fare no cominciamo a discutere cose non la può fare classifica siamo chiari fin da subito e non gli conviene neanche non la deve fare non deve proprio neanche pensarci minimamente se poi gli capita allora è un altro discorso se gli capita lui deve già nella prima tappa andare per tappe la prima tappa però è dura che poterla portare a casa comunque vedo un Ciccone in fuga eh ragazzi in fuga mi trovo a contrario questa cosa è strano che Ciccone sia in fuga perché perché non era stato votato 41% probabilmente ha vinto aspettiamo da qualcuno sarà stato votato aspettiamo sono le tre di notte io non ci credo se gli capita Simone sì se gli capita però se ci pensano ormai ce l'ha fatta sì secondo me neanche neanche per questo dai dai andate 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 quindi allora una tappa sì e una tappa che deve prendere quindi Ciccone a quarti d'ora quindi è Ciccone Pogacar Bingegaard secondo loro sì ok pensa Berta che un'ora fa avevo detto poi diciamo due cose sul giro donne sì e domani dopo che è iniziato dice il Berta dice il Berta sul finale cinque cazzate dai cinque cazzate le politiche come cazzate allora col massimo rispetto Sì no vabbè le donne se ne è già parlate comunque cioè allora se cade Bingegaard solo Wilco Kelderman sì meglio vabbè allora allora su chi devono puntare nessuno ragazzi siamo alla maglia gialla è ufficiale ok è già fatta quindi si farà la direta tv sì del giro donne perché altrimenti sarebbe stata declassata sarebbe saltato tutto sarebbe stata declassata non più col Savor Tour quindi da quel che ho capito la RAI ha pagato 700 mila no la RAI scusa la federazione ciclistica italiana ha pagato 750 mila euro o comunque roba del genere anche se sono meno per avere diritti tv no per farli trasmettere loro hanno pagato non il contrario non so se hai capito sì 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 ho capito ho capito cioè non che la RAI paga per trasmettere il giro donne è la federazione che ci mette soldi per far fare alla RAI la trasmissione che gli permette di salvare il giro di Tai secondo me così in pratica è questo poi il punto vai che è inquietante anche questa cosa qui però allora ah già sono da chiudere il sondaggio scusate manca Pitcock dicono ma soprattutto manca Willcock Enderman come manca Pitcock manca Pitcock non c'era nella maglia Poire no questa è la maglia gialla eh ragazzi no infatti però Pitcock è più di Bernal però Pitcock è una top aggiungo Kelderman e Pitcock sì no perché Pitcock ha detto lui ha detto lui che vuole migliorare in montagna e provare a fare classifica quindi è giusto che la gente si esprima su cosa ne pensa però ha detto anche che lui vuole conciliare vittorie di tappa e classifica a parte che lui è la persona più incostante della terra e quindi non vedo come possa fare una corsa di tre settimane però anche di martedì sì sono troppi ha ragione Francesco ho visto troppa gente lì per che non farà niente ogni gente allora da che punto siamo della notte la notte è giovane come dici no Aaron ma chi è Aaron questo Aaron è uno dei nostri follower me lo ricordo già scrive spesso Aaron medico sì ti sta inserendo anche a Kelderman il piano io ragazzi io mi sento mi sento mi sento questo Wilco io ce l'ho l'ho preso all'atterrino Adriatico l'ho tenuto e lo schiero chi se ne frega io mi sento sento profumo di Wilco a volte tutte ste formazioni uguali che due palle sento 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 nell'area questo Wilco girare ma avete parlato di come fare la squadra della Lega P6 che ci sono 250 quanta milioni e non si sa solo una sorta di Lega dei poveri praticamente come? cosa è fatto? Lega P6 ecco sì io l'ho già fatta la squadra dei mezzi poveri eh poveri è un'altra cosa tra l'altro guarda apro il mercato apro il mercato di riparazione della Lega P6 così ah la buon'ora sì se qualcuno vuole scambiare per fortuna c'è gente che non lavora domani sì allora Felix Gall ragazzi per la maglia gialla per la maglia gialla classifica Marcello ha dato la sua benedizione e è Pogacar che non vincerà mai sì 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 Lega P6 Lega P6 vai ragazzi Gall 20 no allora allora chi scrive frigo deve andare a dormire ha ragione ha ragione ha ragione frigo e Gall nella stessa frase non esistono intanto solo nella crono di 22 km prenderà 47 minuti quindi però 15-20 ce ne sono un po' sarà la rivelazione attenzione Gall è il peggior cronomen 15-20 dai 15-20 Gall Ben O'Connor io qui non mi esprimo aspetta perché comunque aspetta Calder ma lo butto qui Vingegaard Gacha va vai Ben O'Connor O'Connor ragazzi è dura disastro tanto bene o tanto male è impossibile chi da capire 47 top 10 46 47 47 47 quindi addirittura 8-14 8-12 8-12 eh è dura 4-7 vinci secondo me 4-7 4-7 vada lì giusto dai giusto mi associo sì Luzenko Frigo per direttissimo Ghiacciaia neanche da considerare qualsiasi Luzenko ragazzi Luzenko Luzenko frigo 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 ha vinto frigo vai sì sì secondo Simone Velasco è in forma quindi occhi Vilco Kederman ha aggiunto ecco la vecchia maglia giumbo ma c'è Vilco Kederman come perché c'è la maglia vecchia maglia perché non trovavo la caricatura intanto ho messo questo un soldo vecchio no ma dico perché me lo sto dicendo a me stesso perché oggi le ho cambiate e in teoria c'era anche Kederman Kederman non va male potrebbe fare anche un ventesimo posto Kederman io devo sparare grossi anche questo giro vai vai Kederman 4-7 no speriamo attenzione segniamola questa bann alberna di almeno 5 alberta di 5 secondi giustamente il ban il ban il ban il ban punitivo ci vuole attenzione però magari io ce l'ho nella lega nostra Kederman 21-25 io ero per quella situazione 15-20 15-20 nessuno che viene trascinato dalla mia follia 15-20 più 15-20 15-20 dai Jack Leonard frigo frigo anche secondo me frigo per Egg eh attenzione frigo frigo dai dai ha vinto frigo dai Leonard Egg non ci crede nessuno frigo davanti a Luzenko attenzione siamo al questo è difficile attenzione siamo al bidonaro per eccellenza il fuga bidonaro che però ultimamente non è non è così bidonaro ma si sta preparando bene si lascia tutto per Guillaume Martin ragazzi Guillaume Martin allora il Tour de France Guillaume Martin ha fatto ottavo 2021 11esimo 2020 12esimo 2019 21esimo 2018 arriva in fondo no no è andato migliorando tendente al 4-7 è andato migliorando 2017 23esimo 18 21esimo 19 12esimo 20 11esimo 21 ottavo l'anno scorso non l'ha fatto quindi quest'anno potrebbe entrare in top 10 se rimane con la fuoga bidone con la fuoga bidone 8-12 che poi non c'è 8-14 8-14 facile con 4 fuga bidone quanto gli ci vuole cioè c'è da riuperare praticamente un'ora 8-14 tendente tendente però al 4-7 per me poi 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 Nilsson Poles Frigo Poles era andato bene fino a tutte le Ardenne diciamo prima delle Ardenne per l'età e poi è scomparso e quindi Poles al Tour de France ha un 12esimo posto l'anno scorso frigo senza indugi frigo vedo che Rigoberto Uran che viene da un buon Tour de Suisse quindi ci viene è sempre col sorriso sulla bocca comunque ha esperienza vi dico i dati di Uran al Tour de France no perché ha fatto 15 Tour de France no no ha fatto un 7-8 però ti dico vabbè ti dico gli ultimi nel 22 è arrivato il 25esimo malissimo nel 21 decimo nel 20 2020 ottavo 2019 settimo miglior risultato 2017 secondo però si parla di ormai sei anni fa 15-20 vince 15-20 15-20 ok cioè io dico 15-20 però vedo anche Tibo Pinò prego Tibo Pinaccio 1 devo rilicere una tappa dici eh dopo Pino miglior risultato 2014 l'anno di Nibali terzo 2012 decimo sì ma non può far credo che di fare classifica poi non gliene frega niente anno scorso 14esimo e fece un Tour abbastanza non meglio vincere una tappa anche perché gli manca sta tappa al giro c'è andato vicino gli manca sempre no quindi al Tour l'ha vinta l'ha vinta sì sì l'aveva vinta l'ha vinta l'ha vinta l'ha vinta l'ha vinta l'ha vinta l'ha vinta frigo concordo col frigo di chi Pinot frigo dai ok Pinot o frigo Bernal questo sono curioso allora Bernal frigo anche Bernal dici tutto tutto il frigo addirittura sì purtroppo secondo me proverà a stare nei 15-20 con tutto se stesso fu capitone no lui no bisognerà capire anche la Ineos se ci sarà qualcuno che proverà a fare classifica Geraint Thomas dice che arriva a sesto sì mi pare un po' ottimistico ha detto lui che è già tanto se arriva a Parigi però va bene anche perché è la prima corsa da tre settimane che fa dopo il grave incidente quindi è tutto da verificare 8-14 8-14 danno 8-14 Bernal secondo me leggermente fuori dalla top 10 ma vedo tanti frighi però anche scusa 8-14 e frigo il risultato è 8-14 15-20 dai 15-20 dai spostiamo su 15-20 Dani Martinez frigo boia è la persona che va almeno in salita del mondo frizze che dice le chat boia frigo 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 ha vinto ha vinto ha vinto dai ok poi congelatore buz questo ragazzi sarebbe un frigo che però può fare un 15-20 per le fughe potrebbe starci buz 15-20 c'è poca crono 8-14 con le fughe chiariamo con le fughe 15-20 8-14 Bertha dai non credo però vince frigo io azzarderei qualcosa in più di 15-20 no ma ma non che sia cioè se la raccatta con le fughe cioè questo è il discorso se la raccatta con le fughe se va davvero tante volte in fuga e nessuno se lo caga potrebbe arrivare lì Giulio ancora 15-20 frigo no di rimbalzo nei 20 ci arriva 20 ragazzi 20 cioè dai ragazzi nei 20 ci arriva se fa quel che deve fare nei 20 ci arriva a volte nei 20 ci arriva anche qualcuno che non è nemmeno uno scalatore non deve essere nei suoi interessi no va bene no ma ci arrivi di rimbalzo come è arrivato undicesimo a Delfinato e non ha minimamente curato la classifica per dirti capito eh ma potrebbe essere anche un 8-14 eh però per come ha fatto Ciccone io credo che lui una tappa deve andare in fuga e l'altra tappa non deve non deve stare lì a prendere 10 minuti ma sai se devi fare la maia pua devi andarci sempre eh ma sempre Ciccone non è in grado comunque 8-14 o 15-20 più o meno siamo lì anche lui ha bisogno di di tappe in cui si possa riposare e tanto 8-14 dai proviamo no no 15-20 no no 14 perché sono tanti voglio dire non ci sono 14 poi 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 Cristian Rodriguez Carlos Cristian eh vabbè ragazzi stanco eh anche lui 8-14 che le incognite accadute vabbè è uno di quelli che cade di più è la verità ragazzi Carlo Strodighi secondo me 8-14 è dura così a occhio ma sai perché è uno che non mola l'anno scorso è arrivato il ventunesimo Vanart per dire ma quest'anno c'è molto più gente ma è uno che non mola se non c'è una carta vicino nelle prime tappe la metà vita si ritira nelle prime due tappe sì con la pioggia a Bilbao perché abbiamo visto la presentazione non so se te l'hai vista i vestivi che si dice ora a metà salta tanto è sempre così hai visto la presentazione che piove no non ho visto niente pioggia 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 ci sta ci sta Adam Yates attenzione andiamo nella questa è una cosa interessante il piano B con cui hanno messo le mani avanti dichiarato tra le altre cose dichiarato vale doppio chiaramente pescaravanzia stanno facendo tutto questo pescaravanzia però questo è interessato voglio vedere un voglio di nulla voglio vedere cosa dicono chi 4-7 4-7 7 8-14 4-7 4-7 ha vinto incredibile una risposta a cui io mi allineerò quale 4-7 quale te lo dico dopo quale dice 4-7 è la risposta comunque vince 4-7 siamo lì 4-7 diciamo ultimo del 4-7 quali quali saranno i 4-7 Adam Yates è l'ultimo del 4-7 per me attenzione per me fa terzo tio magari guarda ci mettere la firma ora anche io ce l'ho dovunque maledetto lui per me potrebbe fare terzo allora vi dico cosa ha fatto Adam Yates storicamente al Tour de France schifo ha fatto quarto nel 2016 tanti anni fa poi nel 2020 nono 2022 nono comunque è uno che non è Simon Yates a livello di Palmares nei tre settimane perché Simon Yates ha fatto un po' meglio però comunque è uno che la top 10 te la fa però da capitano o meglio l'anno scorso c'era Thomas lui era il secondo capitano e alla fine ha un po' mollato e è arrivato nono però è stato lì in Lizza quarto quinto sesto posto fino all'ultimi giorni e oltretutto Adam Yates quest'anno mi sembra che vada anche meglio dell'anno scorso da un certo punto di vista perché al Delfinato comunque è stato l'unico che andava un po' meno di Vingegaard ma andava quindi chi ce l'ha se lo può giocare bene secondo me Pogaccia poi non ha così tanto bisogno del Gregario se non in quelle due o tre tappe lo terranno lì come seconda punta per un po' poi si vedrà Mentis 8-14 su Mentis muoio 15-20 Mentis ha avuto un attimo Mentis 8-14 è tornato nel suo agile? sì 8-14 ma vai a casa per me 8-14 farà una top 10 undicesimo decimo ma levati decimo ma via basta ora via con tutta sta gente Mentis dai 15-20 8-14 una Mentis sopravviverà alla pioggia 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 che non è uno che casca spesso comunque vince uno commenta Ghir mai 4 frigo c'è quindi vince 15-20 ma forse è ancora la maglia verde sì ancora la maglia verde andiamo a cambiare la tier list a maglia verde perché ha scritto finirà finirà le 6 15-20 dai mettiamo qui con Felix Gall Peio Bilbao frigo molto interessante no frigo frigo perché andato bene allo Svizzera andava bene era lì a podio allo Svizzera andava bene 8-14 minimo non lo vedo non lo vedo 8-14 minimo sì secondo me farà una top 10 tendente al decimo posto che non al quinto no più tendente al dodicesimo una top la famosa top 13 peio Bilbao al Tour de France ha fatto il nono posto nel 2021 il sedicesimo 2020 siamo lì si gira all'intorno top 10 risicata quindi 8-14 dai lo mettiamo davanti a Guillaume non lo vedo darà Bardet però ci devi dire questi 13 prima di lui Bardet Bardet top 17 Bardet 11 infatti ci sta Bardet Bardet ragazzi nono io dico nono 8-14 ottavo nono no no 4-7 no per me va meno dell'anno scorso lo vedo lì sull'8-14 lo Svizzera pativa però magari ha fatto secondo nel 2016 terzo nel 2017 sesto nel 2014 sesto tendente al settimo nel 2022 nel 2018 e nonno nel 2015 cioè Bardet è uno che si piazza in top 10 cioè non ha fatto ha fatto il peggior puerziamento quindicesimo nel 2013 e quindicesimo nel 2019 è uno che comunque nei 15 c'entra sicuro va bene in teoria sì però 8-14 vince e tendenzialmente lui a parte a parte i due quindicesimi post ha fatto sempre top 10 no 4-6 non si esprime che hai detto a 6 top 10 a 6 top 10 e ti? 4-6 ah già entra entra nei 6 vabbè allora guarda siamo lì diamo fiducia a Alberta perché siamo lì siamo lì quindi mettiamolo qua dietro a Dammi Yates sono già troppi sono già troppi lì davanti eh per me Bardet non ci sta anche perché poi Schilmos frigo ma ora è il momento della foto eh attenziala la foto del Mula è il momento della foto della scuola quando si inizia a parlare di Schilmos ci sta un'oretta no no io ci sto come un'altra volta faccio vedere la foto che ho fatto i soliti screenshot al posto di Schilmos frigo e Schilmos foto screenshot i soliti screenshot no comment i piazzamenti alle crono dei Schilmos no no cos'è scusa i piazzamenti classifica generale corse world tour ah ok 2017 sedicesimo una corsa in Pikes Pikes Junior poi Miracola lo hai tour che va bene lo hai tour sesto poi ottantresimo Catalunia quindicesimo Tour de Romandie ventunesimo Criterium de Define sedicesimo volta ciclistica Catalunia quarantesimo Giro d'Italia diciassettesimo Itzulia primo Tour de Suisse però l'anno scorso Mula io non voglio di nulla l'anno scorso io non vedo lasciavoli non vedo niente non vedi nessuna differenza no no va bene cioè ti torna è tutto liscio no Schelmose capito lo Schelmose si è tutto liscio ok ok importante c'è da dire una cosa su Schelmose che comunque l'anno scorso ha fatto bene è vero giri minori però il giro del Lussemburgo l'ha vinto no io ti ho detto corse World Tour lo so lo so è capito ma il corridore cresce cresce nelle corse minori per poi far bene nelle World Tour è arrivato secondo Artur Delen è arrivato terzo al giro di Danimarca è arrivato terzo al giro di Vallone con le corse di Latour è arrivato quinto all'Occitania al route d'Occitania cioè ha fatto dei buoni piazzamenti l'anno scorso e poi terzo al Tour della Provenza inizio anno l'anno scorso le gare Continental nelle ProSiria si è fatto benissimo questo è quando però io ti dico mi puoi rimettere un attimo quella foto di maledetta nulla nulla di di strano queste sono le gare World Tour ma l'anno scorso ha fatto tantissimi piazzamenti ma io ti sto dicendo i corsi World Tour sono una cosa io ti sto dicendo immagini cioè immagini che da 16 83 15 21 16 40 17 si passi a primo terzo o quarto no però dipende come li ha fatti se regge se regge le tre settimane in top ten ci arriva con la gamba che ha se regge le tre settimane è quello che non qui il giro di Svizzera l'ha vinto perché con tutto quello che è successo comunque due tappe praticamente non si sono corse anche quello c'è da dire per l'amore del cielo però a crono ha fatto ha fatto un gran lavoro perché perché veniva da una tappa non corsa e una tappa in cui ha salvato la gamba al posto di a differenza di Ebenerful è vero anche quello ma io non è che voglio fare delle accusi quindi mi sto solo dicendo perché deve avere tutta questa se ha fatto solo un risultato capito non è che voglio dire che lui ha fatto solo un risultato però ha capito ha vinto il giro di Svizzera che notoriamente chi va bene allo Svizzera comunque schifo Arturo non è che volevo dire che lui fra chissà cosa anche ai paesi bassi sto dicendo che ha fatto sempre risultati anche Gita l'anno scorso andò benino allo Svizzera e poi non so forse tu non lo fai l'unica corsa da tre settimane mi sembra che ci sia lì dentro è il giro d'Italia quarantesimo da tre settimane ma è ma è due anni fa o l'anno scorso no l'anno scorso è l'anno scorso è l'uno da tre settimane il corridore di 21 anni è il primo grande giro che fa se vai a prendere il giro il primo giro d'Italia di non lo so di un corridore normale che si piazza nella top ten di non so chi cazzo mi può venire in mente di Nibali il primo giro d'Italia anzi il corridore normale questo cazzo il primo giro d'Italia di Nibali a vent'anni a ventun'anni sarà arrivato ottantesimo per dire non lo so sto ipotizzando quindi capito il primo giro d'Italia non è che fa non è voglio paragonare Nibali a Schermoso attenzione comunque Schermoso era quello che criticò il giro d'Italia dicendo che era una forza minore che non gli interessava perché lui puntava al tordefanzi io per questo ce l'ho con lui questo è chiaro quello si è criticato io dico che comunque nelle tre settimane non reggerà mai comunque insomma qual è la risposta dell'oracolo allora no mi correggo perché ho detto una cazzata vediamo se al giro d'Italia il primo giro d'Italia che ha fatto Nibali è arrivato diciannovesimo non quarantesimo però aveva già aspetta nel 2000 nel 2000 vabbè se non le puoi paragonare dai sì 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 no è un esempio per dirti che il primo giro d'Italia la prima gara a tapp da tre settimane comunque notoriamente arrivi in top è difficilissimo Nibali l'ha fatto nel 2007 lui è dell'84 aveva 23 anni quindi aveva due anni due anni in più no Schermoso era 22 l'anno scorso 21 aveva due anni in più di Schermoso vabbè per dirti quindi comunque Nibali se hai fatto il giro due anni prima sarebbe arrivato 80 qual è il risponso su Schermoso a livello di punti secondo me ne può fare abbastanza perché le prime tappe comunque sono adattissime a lui ma in classifica per me è frigo 8-14 4-7 4-7 io leggo solo chi scrive 4-7 15-20 4-7 4-7 4-7 4-7 8-14 8-14 4-7 8-14 4-7 8-14 4-7 8-14 8-14 allora mettiamolo il primo 5-14 5-14-7 abbiamo già messo troppo gente ok Simon Yates indecifrabile io dico la mia io dico la mia top 10 sicura quinto sesto se non cade ovviamente 4-7 4-7 top 5 quinto 4-7 4-7 4-7 esatto questa è la 8-14 top 7 è veramente difficile eh sì perché non abbiamo termine di paragone comunque mettiamolo le 4-7 dai tra Bardet e Zopratello Carapazze Carapazze qui vi voglio Bullascio Carapazze mamma mia ma eh dura dura per me 4-7 allora c'è da dire che se o lotta per delle posizioni buone o altrimenti si stacca questo è Carapazze che abbiamo visto negli ultimi anni è o è davanti 8-14 o si stacca cioè non è uno che tiene duro come Bardet che dice vabbè oggi magari prendo un minuto poi domani ci riprovo Carapazze vede che si stacca molla e punta le tappe come alla volta eh però dopo facendo le tappe comunque ritorni comunque sì qualcosa è un po' è un po' un ciccone che proverà a fare classifica secondo me 4-7 per me 8-14 voglio credere che fallisca anche anche qua no ma 8-14 non può Carapazzo non è uno da 8-14 perché se lotta per l'ottavo lui esce di classifica apposta farà 13-14 non lo so Carapazzo vince la moglie com dico ci sta ma 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 e notoriamente all'AF non è che i corridori facciano sto sarto di qualità eh a parte Poles a parte Poles Landa e qua siamo in un altro enigma totale Michel Landa allora Michel Landa al Tour de France ha fatto miglior risultato quarto nel 2017 e nel 2020 2019 sesto 2018 settimo 2016 trentacinquesimo comunque il miglior risultato e il più recente è anche il 2024 dalla Liegi in avanti è scomparso scomparso è tornato ha delfinato e ha fatto cagare ci sono ci sono un sacco di gente c'è un sacco di gente papabile sì 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 eh infatti il problema non so i primi due sono tutti quelli dietro comunque 4-7 Landa ha vinto sì ci sta c'è da capire come metterlo però diciamo davanti comunque mai mai avrei pensato di vedere i gemelli Yates 4-7 entrambi addirittura invece vedi Godù questo sono curioso Godù ragazzi sarebbe nell'innaffiera dei 4-7 prima o poi uno lo becchiamo per me Godù è 8-14 anche secondo me perché è uno di quelli che comunque se starà lì settimo ottavo posto non è uno come Carapazzo che dice vaffanculo mollo e poi domani voglio vincere una tappa è uno che proverà sta lì nella top 10 ci sarà Maggio che dice non è una top 10 deve arrivare io credo tanti frigo dicono DNF o top 5 io dubbio se venderlo e prendere qualcun altro però 8-14 8-14 8-14 perché poi anche gli altri sono di punti di domanda diciamo mettiamo dietro davanti a Schelmose perché ha un po' più di storia sul Tour de France diciamo vi dico Godù per me Pirico farà male Godù ha fatto quarto nel 2022 undicesimo nel 2021 tredicesimo nel 2019 quindi in teoria dovrebbe vincere il Tour de France perché sta migliorando quindi podio sicuro quest'anno e ha fatto solo Tour de France Godù l'hanno messo 8-14 è nulla beh potevano metterlo dovunque sarebbe andato bene è un incontro Pidcock ragazzi Trigo anche secondo me punterà una tuta no 15-20 perché ha detto che punta un po' la classifica e quindi l'anno scorso mi sembra che ci è arrivato nei 20 quindi perché non sì ma con un tracollo nella terza settimana un tracollo però Pidcock sedicesimo nel 2022 allora perché 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 quest'anno c'è troppa gente ma tanta gente che andrà a casa guarda tante gente che andrà a casa in quei 4-7 8-14 la metà le puoi anche togliere così tanto cascano si ritirano malanni chi sarà tredicesimo e uscirà di classifica arriverà a quarantesimo per vincere una tappa quindi sarà così Pidcock 15-20 dai ci può stare tra Marten e Gagli ci può stare Giai Indley qualcuno sul podio ci deve andare insieme gli altri due non crede io dico terzo cioè uno tre Lucon che dici? qualcuno sul podio ci deve arrivare insieme era quella frase lì cosa voleva dire che era lui quel qualcuno io anche poi leggendo le quote così è il favorito noi dobbiamo seguire quello che io confermo quella sensazione anch'io penso che anch'io penso che penso che arriverà a te per me è troppo scontato Indley terzo si è chiaro ma è chiaro ma deve succedere qualcosa altri che sono dietro di lui che abbiamo messo sono troppi ci sono troppi punti di domanda lui mi sembra quello fondamentalmente un po' più costante degli altri che nelle gare della settimana comunque non ha quasi mai fatto bene quindi anche il Delfinato quarto no fondamentalmente mi sembra quello che più di tutti ha puntato veramente tutto sul Tour de France si poi lui nella terza settimana va bene cioè il Delfinato di Indley mi sembra come la Tirreno Adriatico prima del Giro d'Italia cioè quella gara una settimana fatta ma senza acuti è stato lì capito ha fatto tutto l'anno senza acuti si si ma è perché quando vince il Giro d'Italia sa fare infatti infatti è uno che è in tre formenti di settimana grande Samut l'avevo ancora visto stasera cioè un po' nascosto capito sai ma così bisogna fare se è un fenomeno si è visto si è visto poco però non malissimo non ha preso le cotte di Godou non ha preso le cotte di Mass è stato lì ha fatto il suo capito Indley mai fatto il Tour de France è arrivato quest'anno quarto al Delfinato una campagna delle Ardenne a parte dodicesimo all'Amstel qua niente di che ottavo al Catalunia quello sono d'accordo quindicesimo alla Tirreno Adriatico tredesimo alla Volta al Garbe sedicesimo al Tour Down Under poco o nulla ha fatto la vera domanda è se non vedete perché qualcuno vedo che in chat su Indley insomma non è molto convinto ma allora chi vedete sul terzo gradino del podio perché la domanda è quella vi dico questo l'anno scorso prima del Giro d'Italia quattordicesimo al Y Tour vedete sedicesimo Down Under quattordicesimo Y Tour quinto Tirreno Adriatico quest'anno quarto al Delfinato poi dopo la Tirreno Adriatico è andata al Catalunia tredicesimo è quel corridore lì che può puntare solo su una cosa sì e l'anno scorso ha fatto vedere che comunque e addirittura non è che ha puntato una cosa ha puntato una cosa e ha una tappa specifica e ha vinto quella cosa che aveva puntato e quella tappa che aveva puntato ha preso la moglie rosa comunque giustamente qualcuno infatti dice Alessandro ci vorrà poi un sondaggino per il terzo posto tra i Kindle troppo hype è vero ma quello è vero sono d'accordo per me è troppo facile ma non c'è hype è vero invece sì un po' sì ha ragione ha ragione un po' sì no ma che c'è sul Cheimose c'è hype sul Cheimose Schirmose proprio vabbè ormai all'esterno l'hype è un'altra cosa comunque massi ragazzi comunque ringraziamo le quasi 500 persone che ci stanno continuando sì nonostante le 500 persone io su Mass dopo aver letto o male 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 allora io Mass si è detto anche su Bike si è detto anche su Bike che di solito le notizie stava male ha definito c'era un problema prima ha detto comunque gastrointestinale non l'aveva detto alla squadra non l'aveva detto alla squadra per non per non trovare scuse questi non si dicono alla alla stampa lui non l'ha detto alla squadra lui non l'ha detto alla squadra che c'aveva un problema capito per non fare questo è pazzo dai ora se no davvero no ora no non è uno guarda che qui siamo alla follia perché io quello lì mi ci sono fissato mi ci sono fissato su quel personaggio lì perché io veramente non lo non so più dove inquadrarlo dove mettere cosa stai facendo poi vabbè comunque a parte questo non non ho idea guarda 8-14 mass è senza senso perché mass se sarà nono decimo si ritira capito perché si deve andrà a fa la vuerta arriverà sul podio la vuerta ho rischiato massi uno riveli che quando non lotta per le posizioni per le posizioni davanti perde morale perde è uno che di testa come uno tipo godus non ha la testa non ha la testa cede cede faccato perché in salita è forte quando ha la gamba quando scatta fa selezione infatti sono tutti che è forte solo la guerra infatti ha fatto dei podi Artur però è massi che bisogna di non lo so può fa qualsiasi cosa ma non non si può prevedere capito è uno che mette lui è veramente massi ha fatto quinto nel 2020 sesto nel 2021 e ventiduesimo nel 2019 vabbè lo mettiamo tra 4-7 ci può stare ho fatto tanti podi alla guerra nel senso non è massarsi vedo due che lì non ci devono stare è imprevedibile mass ma secondo me non lo sa neanche lui non lo sanno neanche loro neanche loro che lo conoscono nessuno lo sa cosa 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 farà quello è probabile infatti di solito quando uno cade cade dalla vita e lì si risolve la questione a quel punto lì allora dai mettiamo qui allora ordine a casa quindi primo sondaggio chi vince allora io vi dico io tiriamo le punte la sera cosa tiriamo le punte non so come anticipare sta cosa vingegaard salta fogaccia cosa cosa attenzione vingegaard salta fogaccia il primo secondo mass terzo uno tra o con scusa perché vingegaard salta se non cade cioè saltare vuol dire scusione ah cade ah cade ok ah si che cade l'incidente proprio cioè stai stai prevedendo un incidente non la non il crollo no 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 il crollo proprio dalla bici mamma mia allora ci sta già di più come youtube la mia di esamina no no ma quello ci siamo pensavo volevo capirsi era un crollo fisico cioè nel senso di materiale cioè che casca dalla bici o se crolla se salta perché salta salta non salta quindi in riassunto pogacar mass o con ci metteremo a film allora metto pogacar vingegaard e ingley chi vince il tour intanto a beh ingley credo che prenderà pochissimi voti ragazzi votiamo l'ultimo sondaggio uno degli ultimi sondaggi della serata si buffa ragazzi ma se tu se qua seguiamo tutti i piani grazie no ma hai ragione che non andrà tutto non hai ragione non andrà tutto non andrà niente così bella però sta lotta però la caduta è difficile cioè se tu avessi detto secondo me salta perché non va capito ragazzi c'è il sondaggio la caduta è imprevedibile non va la caduta è imprevedibile ti dico comunque uno dei due salta uno dei due salta per forza non lo so vediamo un po' com'è questo dove è dobbiamo votare votiamo siamo lì allora io per correttezza voto Fugaccia però poi ci vuole un altro sondaggio ragazzi per il terzo posto fra Indri e tutti vedete 4-7 o almeno 4-7 lì bisogna fare semifinali per forza c'è una platea di nomi alla grande dunque ragazzi di poco ma sta chi è il 9% che ha votato Indri ma il tuo cane è fede si non per cazzo è incazzato no è Gina è la Gina si c'ha 4 cani ragazzi si chiama Gina Gina Bimbo Lapo e Tommy Lapo è il più intelligente Lapo è un Jack Russell io per correttezza che mi odia allora ragazzi siamo più di 100 voti è passato due minuti e la chat penso che insomma di poco aspettiamo giusto un minuto aspetta 120 vediamo se ci arriva insomma eh insomma sta vincendo Pogaccio 48-44 sono lì il tour mediocre ovviamente ma spero di no 45-48 mamma mia c'è il 7% 46 sono lì ma quando ci fermiamo pari pari attenzione incredibile quando ci fermiamo però cioè dai un dai un io 120 mi fermerei poi vede Fede decidere dai dai a 120 dai no come 120 120 ho già ora 116 mancano 4 ore se sono pari si va saliva saliva un po' più avanti dai ragazzi votate ci sono quelli che sono votate due alla volta mancano 3 voti a 120 sono quelli a cui non piace tante categorie mancano 3 voti a 120 e dai ragazzi votate 3 voti a 120 siamo a 40 diciamo c'è si ha vinto Pogaccio dai 48-45 eccolo 120 47-45 quindi l'ultimo 48-45 120 unesimo dai chiudiamo 130 dai no 130 130 130 si chiude basta c'è c'è che non c'è aspetta io forse ho votato lo so anche nell'altro account vediamo no cosa fai voti due volte vergogno lo dici anche voto con quell'altro account no dai fai schifo ah no non posso votare perché quello è quello di Fantasaki non posso votare dai ragazzi 6 voti su non posso votare 5 5 voto 4 voti il 7% che ha votato indietentano la carta 128 mancano 2 voti siamo al 48 è finito dai ragazzi è impossibile con 2 voti non puoi riuscire al 3% è impossibile è finito non vota nessuno comunque vabbè no è che la gente metà della gente è collassata si ha tormentato un voto si ma è finito dai oddio con un voto forse potrebbe anche 130 finito 47 va beh dai andate ha vinto ok di poco molto di poco attenzione che la mia l'esamina ha fatto breccia nel quindi Pogaccia l'indica allora facciamo facciamo così ora mettiamo così a spanne di questi qua chi eliminiamo chi buttiamo sotto di questi qua no 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 devi mettere Indri o Connor no che è Indri Indri terzo no 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 voglio il podio no no il podio è stato votato Indri punto ma votato a chi è vero scusa però allora è vero è stato votato è stato richiamato all'ordine ma votato allora io qui c'è che ha votato Indri no prima hanno detto che Indri era lì Indri è della la comunità è stato votato 1-3 nel senso 1-3 e quell'altro no sì ma scrivendo 1-3 no facendo il sondaggio io voglio il sondaggio del terzo posto allora prendiamo allora prendiamo 1-2-3-4-5-6-7 diciamo che devo prendere prendiamo 1-4 di questi scusate una cosa aspetta però scusate una cosa Indri è stato votato 1-3 Masso Conor no io mi rifiuto siccome ci sono anche due allora devo fare l'ultimo sondaggio su per vedere se ancora ne prendi 4 di questi video e dici chi arriva terzo Indri Conor Mas non lo so vabbè ultimo sondaggio della serata allora forse chi arriva terzo forse Indri facciamo 100 voti e basta Indri o Conor ma è veramente all'1 e un quarto siamo ancora qua in 450 allora Indri o Conor Mas e non lo so se ne volevi fare due se ne facevi due oppure se no ne devi scegliere no tira a caso dai tira a caso è l'Andra ragazzi l'Andra è quello più provare Samuel Yates è dubbio Adam Yates comunque parte seconda punta Barra Gregario Bardet è un'andavanza lì quindi vince Indri vai per me ce ne arriveranno due su quattro siamo pazzi è giusto come definizione allora io voto Conor io voto Indri Indri io voto Indri io voto Conor è una vittoria schiacciante che conferma sì era chiaro ma è oh Bertha potevano ribaltare ribaltare invece sono monotoni cioè avevano avuto l'occasione di ribaltare non c'è rischio qui qui ci affidiamo tutti strano perché abbiamo parlato così bene di Mas Landa e O'Connor in questa live non c'è nessuno che osa non c'è nessun azzardo però stasera siete tutti piatti ragazzi sicuramente stasera stavo facendo il record perché tre ore e mezzo con più di 400 persone penso si è mai fatto credo non so forse una volta non so puntiamo tutto su quelli che dormono nemmeno per la sta pazza questo sondaggio è finito era inutile finalmente finalmente qualcuno che che mette un po' di pepe cioè chi è fede guerra che dice chiudi chiudi il sondaggio facciamo un altro sondaggio poi si chiude quindi no no da questo qui dobbiamo prendere l'ordine ovvero Indele Okondo Orlando e faremo un altro sondaggio un altro sondaggio ci può mettere 5 e 9 no 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 4 prendiamo l'anda l'anda scavalca Mass possiamo fare un sondaggio tra questi quattro tra Mass Yates Yates Bardet chi vedete meglio e da lì mettiamo l'ordine gli ultimi due retrocedono 8-14 com'è il quarto sarebbe O'Connor quindi quarto con quinto l'anda sesto Mass votato pochissimo quindi l'ultimo sondaggio è Mass Yates Yates Bardet gli ultimi due scendono dentro anche l'anda non posso sono cinque quindi lì via le quattro lì chi è che fa il quinto posto il sesto posto il sesto tre quattro cinque per il giro donne volevo comunicare che il Berta finita questa live ne farà partire un'altra a cui risponderà a tutte le vostre domande e quindi restate sintonizzati più o meno dall'uno e mezzo fino alle quattro quindi tranquilli che Berta è a vostra completa disposizione dai ultimo sondaggio per vedere comunque qual è così per divertimento per vedere qual è un po' l'umore anche perché adesso immagino Berta avrai un po' un languorino quali sono le sensazioni della gente dai quali sono le sensazioni i ganzi stanno salendo qualcosa alla panna e quei 60 70 che sono ancora svegli e stanno votando che è successo che dobbiamo votare io mi immagino quello che sta votando questo sondaggio sesto nel senso è chi è il meglio di questi video io ho tirato a caso vediamo facciamo una top 10 in pratica perché sesto 7 ottavo 9 praticamente c'è troppo a quel punto avresti fatto una top 9 o qui sono 32 pari qua c'è c'è troppo battaglia mi chiedo come facciano questi video arriva 8 14 se ci sono 3 6 9 davanti è un po' bello il bello di questo momento di Gianluca Bruno non lo possiamo mettere io lo voglio ma vedi Gianluca Bruno cosa no no dai passarlo perché sennò poi dicono che siamo no no siamo sessissimi nessuno di questi arriva sesto può d'alse può d'alse perché noi abbiamo considerato anche quelli che saranno sicuramente gli scarponi ma chiaro ci saranno sorprese aumentate grandissime sorprese cadute specialmente nei paesi baschi con la pioggia 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 ci saranno dei disastri devastanti quello è ovvio allora ragazzi sapete ragazzi che le cadute ci sono dell'uomo di classifica ci sono tutte nella prima settimana questo ormai è evidente avete votato e questo è un disastro per il fantasaking perché quando ti cade uno di classifica nella prima settimana è perso una donna che fiducia in Bardet tipo Jonas Bardet è un fallito tanto è tardi ragazzi ciao Romain no ma nel senso no ho sbagliato è un finito cioè è stato un grande corridore che non ha mai vinto nulla però è finito perché c'è gente che ce l'ha con Bucman perché dopo quella caduta al definato no vede la luce ne è in Bucman ha vinto Bardet dai complimenti complimenti a Bardet Bardet Mass Simon e Adam Adam quindi fai la top 9 quindi sarebbe secondo la nostra community così la top 10 sarebbe questa come Adam dietro a Simon quindi sarebbe primo Pogace secondo Ving terzo Indri quarto con quinto Olanda sesto Bardet settimo Mass impossibile ottavo impossibile perché secondo me si deprime prima piange e si ritira il gastrointestinale citomegalovirus crisi depressione non comunicato disturbo positivo provocatorio qualsiasi non ha fatto finire settimo Mass ottavo Simon Yates nono Adam Yates decimo Godou si Godou decimo non ha votato nessuno il decimo è improvvisato il decimo posto potrebbe essere uno tra Godou Schilmose Carlo Stuttighe Spielball Schilmose e Carapaz ragazzi questa è la Tierney Landa Quinto sarebbe il top Landa Quinto sarebbe un'altra disgrazia perché lui o fa un cazzo di podio al tour oppure si deve ritirare perché altrimenti è un'altra delusione di essere arrivato lì a un passo dal podio l'unico che manca è Jorgensen che non abbiamo inserito non lo vediamo solamente perché lui ha detto che farei il Gregario anche se non ci chiede nessuno purtroppo io lo so quindi non farei il Gregario se poi va la giumbo ma possiamo dire che è un'incognita sulle tre settimane è troppo incognita anche quello io mi baso sulle dichiarazioni che ha fatto lui la squadra mi ha chiesto di fare il Gregario io lo farò e alla fine ne vado che si mette vabbè quello ci sta ci manca un nonne nella traschezione solo che chi casca definato non può fare un buon tour in conclusione vuoi dare due dritte sul giro donne due nome sul giro donne hai cinque minuti sul giro donne vai te io dico solo che la cronometro domani la prima parte è alla mezza mezzogiorno e trenta quindi dovete schierare la formazione mezzogiorno e trenta domani vi dico già chi vince vince Claude Daigert ok intanto intanto ce l'ho ce l'ho intanto piazziamo una vincitrice poi io prenderei tre facciamo facciamo così allora della Movistar Van Vloyten per la classifica e poi c'è anche la Lippert Lippert però non mi non mi dà fiducia poi di questa squadra io ci ho messo Justin Ghechiere no no cos'è una velocista cos'è Ghechiere va bene con quelle tappe lì medie non è veloce ma ci sta con quelle tappe medie mosse che ci sono a Roma Italia basso andiamo avanti andiamo avanti Bepkin andiamo avanti qui Silvia Zanardi ma non mi dà fiducia ok Born to Win questi sono nati per vincere e invece perderanno Canyon allora Canyon ho detto Claude Daigert e attenzione alla Paladin per la generale per le tappe non per la classifica però non è un giro durissimo mi sembra ma essendoci tante tappe mosse ma non difficilissime attenzione Chloe Daigert è quella per la crona questa qui Chloe Daigert un po' di volare un po' di crona anche la Ludwig Cavalli e Ludwig quindi qua è un grasa monetino sono tre per la classifica Music Ludwig e Cavalli c'è nemmeno una perché mi mancano soldi quell'altra per 3 milioni Music non la posso prendere poi Fenix The Koenig avanti GB Junior avanti avanti anche GB Senior Human Power Human Power Health avanti Cordon Rago Isolmant avanti Israel Nguyen Tittat Nguyen Tittat Chiede la nazione lì è Mongolia mi sembra la bandiera no o Vietnam occhio quello che dite interessante sull'astica sì ma tipo che nazione è Giulia sono una sega Vietnam Vietnam eh c'è beccato c'è beccato Liv Racing Mavi Garcia ma anche lei non è che mi dia tutta questa fiducia però sicuramente per la classifica andrà lei ma potrebbe scoppiare da un momento all'altro e poi sappiate che queste corse femminili sono interessanti perché quante corridori sono 150 di più un po' di più sì dopo 30 km sono in 30 è fantastico il ciclino femminile perché dopo metà tappa di qualsiasi tipo sono rimaste praticamente in 50 sempre perché 120 persone non sono in grado di correre ma chi è che chieda Neider Meyer chi cazzo sta Bertha ma ero perso scusami Liv Racing cosa hai detto e penso che 120 persone non sono in grado di correre quella classifica ma è a rischio esplosione da un momento all'altro ma che si pianta da un momento all'altro cioè che non va 39 anni di amore come fate non è più giovane team team DSM Labou però non ha un periodo di forma ottimale mi sembra però non so Labou si è ritirato dallo Svizzera Juliet Labou però ci sta ci sta ci sta ma attenzione per le tappe mosse attenzione Megan Yastrab Mullah se sei sull'astrico Megan Yastrab no sono troppo sull'astrico anche sui cambi quindi non posso sciupare voglio prendere vita music ma non c'è soldi team Yaku Alula una classifica tengo Uska Zegat sulla fiducia Zegat è la Jacob Lula è la raga poca scusa è la mentis del ciclismo femminile sempre costantemente in ultima posizione che ci siano l'altro giorno ha rischiato di vincere 100 persone o 3 lei è sempre in ultima qualche gara fa ha rischiato di vincere il tour de swiss mi sembra hanno ripreso a 100 metri quindi del team Yaku Alula nessuno uska zegat uska per le volate ane sante steban e uska zegat per la classifica che è quella di cretto ane io punto tutto punto tutto su fem van empel penso che sia una delle prime gare in stagione che faccio cron e poi basta c'è la boss marianne vos può vincere delle tappe marianne vos farà un milione di punti però è difficilissima da prendere perché se prendi la classifica non ce la fai a prendere lei e poi team sdworks niam fisher black non c'ho solo vibes per le volate vibes per le volate blanca vass per quando non resiste vibes e comunque un arrivo da gente veloce però per la classifica puntano su di lei perché non c'è la niam fisher black c'ho soldi c'è 28 ah perché volevo prendere te non c'ho i milanotti che non posso prendere questa squadra italiana l'idl track allora l'idl track abbiamo longo borghini che va bisogna averla secondo me gaia realini cazzo ha vinto due titoli di fila quindi comunque va io ce l'ho tutte e tre pensate queste tre qui c'ho tutte e tre gaia realini ma qualcuno ce l'hanno quasi tutti ovviamente e anche shirin valarroi per la classifica nì allora così mi butti su valarroi è un po' più velocistona no no è una via di mezzo una via di mezzo però poi abbiamo il team persico che è in ripresa ha fatto un buon campionato italiano sì ma la classifica la farà mangiare c'è una domanda da fare però la persico l'anno scorso di un buon classifica l'ha fatta settima e quinta arturo cazzo perché quest'anno no ma infatti l'unica che vi posso permettere è erica magnani mi vale la pena di spiegare un cambio o no domanda è questa sì sì c'è un decimo posto alla Burgos femminile per arrivare a decimo mettere ottava la volta arriva arriva nelle prime cinque sì allora farò questo cambio c'è Chiara con Sony per le volate volevo solo dire che Marta Bastianelli chiude la carriera dopo questo giro di carriera mi assicuri che arriveranno nelle prime cinque invece 1x 1x niente c'è Maria Giulia mi assicuri che di arrivare nelle prime cinque no non te lo assicuro però ci sono discrete possibilità farò sto cambio ragazzi non la prendere mi dico anche questo mi dicono no ciao a tutti ma ti dicono anche il Blasovista ti dice che si esalta in queste gare come come metti un ricidio allora stanotte ci penso ragazzi grazie a tutti che siete quasi 400 persone dopo 3 ore e 48 di diretta grazie a tutti buonanotte buon tour facciamo i complimenti ci vediamo sabato post prima tappa del tour facciamo complimenti a Lorenzo Ducon che oggi non ha fatto né DNS né DNR ce l'ho fatto incredibile incredibile è stata dura ma ce l'ho fatta incredibile ragazzi buonanotte grazie a tutti e ci vediamo presto ciao buonanotte ciao buonanotte buonanotte